Buon pomeriggio, benvenuti, aspettiamo ancora di raccogliere i partecipanti che stanno salendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo, dottor Del Nevo. Stiamo sui 70 partecipanti. Se ne aggiungeranno senz'altro altri. Buon pomeriggio, benvenuti. Siete numerosi come l'altra volta. Grazie per aver accolto l'invito della Camera di Commercio a partecipare a questo ciclo di webinar. E grazie soprattutto al dottor Del Nevo per aver accolto la nostra proposta di essere relatore su tematiche che siamo certi siano di grande interesse per tutti coloro che lavorano negli uffici di commercio estero delle tante tante aziende di Parma che esportano. Se l'altra volta abbiamo parlato dell'origine della merce e delle merci, questa volta parleremo della classificazione doganale delle merci. Per chiudere poi il cerchio, per così dire, il cerchio ideale che abbiamo cercato di tracciare negli argomenti, il 3 di luglio, quando parleremo della bolletta doganale. Allora, l'incontro di oggi si svolgerà come è successo l'altra volta, vale dire il dottor Del Nevo farà il suo intervento. Voi potrete scrivere nelle chat o nelle domande risposte, il dottor Del Nevo valuterà se rispondere subito, se le domande sono coerenti con quanto, come dire, su quanto sta dicendo in quel momento, si rispondere diciamo nella fase finale. Ci sarà anche una breve pausa, deciderà il dottor Del Nevo quando farla e direi che questo è tutto. Quindi siamo a 80 partecipanti, io direi al dottor Del Nevo che possiamo iniziare con il nostro argomento. La ringrazio ancora. Va bene, allora buon pomeriggio a tutti quanti, probabilmente non siete tutti le stesse persone che hanno partecipato la volta scorsa, forse qualcuno ha seguito sia il presente incontro che quello di oggi. In ogni caso oggi la nostra chiacchierata, perché tale vuole essere, è imparata esclusivamente su quello che è il sistema di classificazione doganale delle merci, quello che vengono volgarmente chiamate voci doganali, custom tar, FHS code, tante terminologie potreste sentire utilizzate in materia doganale, certamente, stiamo comunque parlando di quel codicino apparentemente innocuo che definisce da un punto di vista doganale le merci oggetto di import, export, scambi intracomunitari. Vi dico subito codicino apparentemente innocuo perché evidentemente poi tanto innocuo non è. Io spero oggi di potervi trasmettere questo mio pensiero, che questo codicino è tutto tranne che innocuo, perché tutto il mondo doganale, stesso di import, stesso di export, ruota intorno a questo numerino. Per quella che la mia esperienza, ormai purtroppo di 20, ho perso anche il conto, 27 anni credo che faccio questo mestiere, credo che le aziende italiane, proprio in senso generale, abbiano sempre sottovalutato l'importanza di questo codice, non si dedica alla giusta attenzione, non si conoscono talvolta anche gli strumenti necessari per andare a definire correttamente una nomenclatura combinata delle proprie merci. Questo per me è già un errore concettuale gravissimo, non grave, gravissimo, perché sbagliare la voce canale ha dei riflessi poco, se vogliamo, negli scambi intracomunitari. Sappiamo che nei modelli intrastat noi dobbiamo dichiarare anche la voce canale, ma questa assume prevalentemente statistica, quindi diciamo che negli scambi intracomunitari sbaglio la voce canale, vero, non la devo sbagliare, ma se la dovessi sbagliare, poco male. Nell'import-export in senso stretto, quindi con quelle attività in cui c'è una dogana in mezzo nelle nostre dichiarazioni doganali per uscire, per entrare nel territorio unale, la voce canale inizia ad essere un elemento imprescindibile. Sbagli la voce canale in import, sbagli l'aliquota daziaria, la cascata sbagli l'aliquota IVA, la base imponibile del Dazio si costruisce in un certo modo, ma la base imponibile dell'IVA è la base imponibile del Dazio più il Dazio, per cui se è sbagliato per conteggiare il Dazio è per forza sbagliato anche un conteggio dell'IVA. E questo tutto per una voce canale magari non individuata in maniera corretta. Nell'export, le regole di origine della volta scorsa, perché quando mi avevo provocato chiedendomi le voce canali, ce l'ho ancora segnata qua, mi avete sommerso delle vostre voce canali, giustamente, perché ve l'ho chiesto io. Quindi avete capito che le regole di origine sono funzione della voce canale. Scegli una voce canale è una regola di origine, scegli una voce canale diversa è una regola di origine diversa. Il finale quindi potrebbe profondamente cambiare per quel che riguarda le dichiarazioni di origine. Ovviamente ci sono tanti altri riflessi legati all'embarghi, mai come oggi possiamo parlare di embarghi, Russia, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, paesi innominabili, dove un prodotto risulta di libera o non libera esportazione, non solo in funzione della voce canale, ma la voce canale potrebbe lanciarmi dei warning sicuramente interessanti e meritevoli, ovviamente la giusta attenzione. Comunque, è chiaro che noi siamo qui per capire oggi come si definisce una voce canale, per capire come nascono le voce canali all'interno del vostro sistema d'azienda. L'obiettivo a tendere, sperando che sia perseguibile da ognuno di voi, è che riusciate a creare un anagrafico articolo dove per ogni articolo, ogni articolo esistente in azienda, sia definita la voce canale. Il mio sogno, che in alcuni casi è realtà, in alcuni casi è destinato forse a rimanere un sogno, è che per ogni anagrafico articolo, di ogni articolo, sia esso in acquisto, sia in vendita, ogni oggetto che stranita in azienda, siate in grado di definirmi la relativa a voce canale, custom tariff di acquisto e di vendita. È chiaro che noi qui oggi ce la chiaveremo in tre ore, io cercherò di spiegarvi gli strumenti che un'azienda deve conoscere. In realtà l'attività che va svolta in azienda è un'attività ben più importante, l'attività che dovete svolgere in azienda è un'attività di classificazione massiva, questo è un mestiere. Allora, la domanda che potrei farvi per chi mi ha seguito la volta scorsa, intanto sono io che farò domande a voi, voi ovviamente le potete fare quando volete, io cercherò di rispondere a tutti, ma se io chiedessi a voi oggi, aziende collegate, ma le voci doganali siamo a questo livello, abbiamo per ogni anagrafico articolo, proprio nel gestionale, già l'indicazione puntuale della voci doganale, se mi rispondete sì, il webinar potrebbe essere quasi inutile, ma forse proprio inutile non lo sarà lo stesso. Se vi dite no, non ci siamo, allora l'obiettivo a tendere potrebbe essere davvero quello di portarvi a dire, ma dobbiamo classificare tutto. Sì, assolutamente sì. Allora, io vi dico, l'obiettivo di oggi ovviamente non è risolvervi le questioni di attribuzione ai voci doganali, perché non basterebbe una giornata intera. L'obiettivo di oggi è quello di farvi conoscere gli strumenti per definire una voce doganale. Questo è l'obiettivo del nostro webinar di oggi, e quindi cercheremo di elencare, passo dopo passo, quali sono gli strumenti, i percorsi logici, che l'azienda deve porre in essere, per andare a definire correttamente le sue voci doganali, senza vendita, senza acquisto. Non più tardi di oggi, un'azienda mi ha scritto, dicendo, eh ma il mio fornitore mi dice una voce doganali che è sbagliata, cosa faccio, seguo il fornitore o la cambio? Ma non c'è dubbio, la cambi. Non è che se mi scontro con un fornitore che è un mitomane, che mi dichiara voci doganali a caso, io lo debba seguire. Se io ho la ragionevole certezza che la voce doganali comunicata al fornitore non abbia senso, non solo la posso, ma la devo cambiare. Ricordiamoci subito, e così sgompriamo il campo, da possibili illusioni che chi si intesta una bolla doganale stessa di import, stessa di export, è responsabile del contenuto della dichiarazione doganale. Voci doganali comprese. Questo vale tanto in import quanto in export. Non ci nascondiamo dietro i fornitori dicendo, di cui va a me, ma me l'ha detto lui, è colpa sua. No. Io ai fornitori tendenzialmente gliele chiedo le voci doganali. Ma chi è che le va a filtrare? Chi è che va a verificare se hanno senso, non hanno senso, se sono le migliori o sono perfettibili, si possono migliorare. C'è un ufficio voci doganali nelle vostre aziende? Non vi conosco perché neanche vi vedo, ma io vorrei dire più no che sì. Ma questo perché è una tradizione italiana, non esiste un ufficio voci doganali. Mi potete dire, ma se fosse l'ufficio voci doganali non fa niente tutto il giorno, perché non è che tutti i giorni classifichiamo. Vero, probabilmente è anche vero, però chi è il responsabile delle voci doganali? C'è una responsabilità in capo a qualcuno sulle voci doganali? Tutte domande provocatorie che vi faccio in cui voi siete sempre libri di avvalervi della facoltà di non rispondere. Però secondo me la voci doganali è una grossa responsabilità. Allora che è un problema dell'ufficio acquisti, del commerciale, della produzione, dell'amministrazione, peggio ancora che non voglio offendere nessuno, ma l'amministrazione normalmente non è minimamente un tecnico di prodotto, non ha minimamente idea di cosa si è fatto un prodotto. Secondo me un tecnico di produzione nel processo di classificazione doganali della merce deve sempre essere coinvolto. Non l'abbandonerei mai da solo perché il tecnico di produzione mi sa dire vita molte miracoli di un articolo, ma non sa cos'è una voce doganale, non conosce gli strumenti per definire una voce doganale, per cui la mia idea che vi lancio fin da subito, che sarà il live motive di tutto il nostro pomeriggio di oggi, è che l'obiettivo a tendere è quello di creare un team, non so se chiamarli volontari o vittime delle voci doganali, definite voi, date voi la definizione più corretta, però per me l'attribuzione voce doganali deve essere un'esperienza condivisa da più persone, con più esperienze aziendali, chi conosce il prodotto, chi conosce gli strumenti per definire le voce doganali, mi piace l'idea del team, primo perché definire la voce doganale è una responsabilità, una responsabilità che preferisco essere condivisa, perché da un'errata voce doganale possono scatturare sanzioni epocali, sanzioni che in alcuni, rari fortunatamente casi, però mi hanno visto far chiudere delle aziende, io vi potrei raccontare di casi di aziende che oggi non ci sono più, semplicemente perché hanno preso delle sanzioni, soprattutto lato import, extra way, con voce doganali errate. Allora lì potrei raccontarvi di verbali milionari, non di 100 euro, 1000 euro, e me la cavo, io ho visto personalmente dei verbali da 2.200.000 euro, 1.800.000 euro, 1.550.000 euro, tutte per voce doganali sbagliate in import. Ocuno potrebbe dire tu segui dei delinquenti, aziende, no no, tutte aziende serissime, aziende che hanno commesso un fatale errore di classificazione, non so dirvi se in buona o malafede in tutti i casi, però di fatto c'è stata una contestazione con l'effetto retroattivo triennale, perché poi questo è il problema con l'agenzia del dogane, l'effetto retroattivo triennale nel momento in cui mi contesti una voce doganale, non mi contesti solo l'oggi, mi contesti oggi, ieri, l'altro ieri e nei tre anni a venire, se ho sempre seguito lo stesso schema mentale del dogane mi contesto tutto, mi riconteggia tutti i diritti doganali, se ne si dà il suo IVA con effetto retroattivo triennale, interessi, sanzioni, vi assicuro che raggiungere le migliaia, centinaia, migliaia di euro è cosa estremamente facile. Allora, per rendere un po' la nostra giornata più interattiva possibile, dei limiti di quel che si possa fare nel contesto di un webinar, perché è chiaro che voi mi vedete, non vedo nessuno, quindi io sto parlando a un computer, sperando che ci sia qualcuno dietro e mi sia da ascoltare, io chiedo a voi, ma giusto per capire da che livello stiamo partendo tutti insieme, se vi definissi oggi il compito di trovarmi una voce doganale di un prodotto che ancora non avete classificato in azienda, che strumenti conoscete, dove vi muovete, se qualcuno ha piacere di scriverlo in chat lo faccia pure, così iniziamo a capire quanti strumenti conoscete, perché l'idea è proprio quella di portarvi al livello dell'agenzia delle dogane, cioè siccome il gioco della voce doganale è un gioco di classificazione vostra e di verifica della dogana, noi dobbiamo capire quali sono gli strumenti che la dogana ha a disposizione per contestarmi una voce doganale, perché se io uso gli stessi strumenti della dogana, gioco ad armi pari col mio controllore, se io invece non conosco gli strumenti, la dogana ne conosce più di me, c'è il rischio che anche in buona fede io non abbia consultato alcuni necessari strumenti e mi trovi quindi con delle pesanti contestazioni che se avessi avuto modo di conoscere determinati strumenti probabilmente avrei ampiamente evitato. Allora, vedo che nessuno sta alimentando la chat, quindi non so se, no, invece è proprio una domanda e risposta, scusate, va benissimo, anche allora, il signor Giorgio mi sta scrivendo certamente dalla composizione del prodotto della sua destinazione finale, ok, primo commento sicuramente interessante, adesso qualcuno inizia a andare già, giustamente, perché vi ho provocato io sul tecnico, inizia a parlarmi di Tariq, immagino che la signora Ilaria stia parlando di Tariq come portale dell'Agenzia delle Dogane, quindi adesso lo vedremo insieme, perché quello è sicuramente lo strumento più importante, addirittura il signor Giorgio già cita giustamente l'ITV, l'informazione di Tarifare Vincolante, che invece rappresenterà il nostro finale di storia, sarà lo strumento per definizione, l'ultimo che andremo ad analizzare insieme oggi, signora Barbara per ricambi di macchinari tende a chiedere, cioè i macchinari che non produciamo noi, quelli di pura commercializzazione, mi sembra di intuire dalle parole, dallo scritto, signora Barbara, va a chiedere direttamente al fornitore, giustissimo, sarò il primo a dirvi chiediamolo al fornitore, però è chiaro che come dicevo prima, filtriamolo, questo fornitore, mi dice delle verità assolute o delle verità che devo andare a verificare, chi si fa carico di andarle a verificare, se vuole qualcuno che abbia comunque competenze sicuramente tecniche, Silvia, giustamente parla anche lei del portale dell'agenzia delle note esplicative, che saranno un altro strumento che oggi vi andrò a raccontare, che sarà uno degli strumenti più importanti che la Dogana userà contro di voi, per cui sarà vero che li conosciamo tutti, Tariq, Tariq, vedo che la Tariq va per la maggiore, quindi, anche se il Paolo scrive a Ida online, quindi di fatto stiamo andando tutti sul portale dell'agenzia Dogane, l'agenzia Dogane è Tariq, Tariq, Tariq giustamente è quello più conosciuto, se la Giuliana fa riferimento al portale del portale dell'Unione Europea il Market Access che va bene, anche quello sicuramente molto bene, Sena Francesca inizia a parlarmi di Tessile, che non c'è niente di peggio del mondo Tessile per quel che riguarda l'attribuzione dei voci canali, dice, ci facciamo sul codice canali dati dalla tessitura e poi il portale Tariq, verifichiamo che sia corretto, che vada cambiato, ok, quindi comunque sempre il riferimento al portale Tariq vedo un po' per tutti, Sena Giorgio scrive ancora portando il risportante dobbiamo in ogni caso qualificare le competenze del fornitore, va bene, Sena Martina se la prende con i suoi tecnici, scrive assiglio i tecnici di produzione e i fornitori per cercare di capire al meglio le caratteriche del prodotto per poi cercare di classificarlo, va benissimo, ok, diciamo che adesso questo tariff number, questo link che sta provendo la Sena Martina, adesso così a me non dice molto, ok, vabbè sì, è comunque un portale, ho provato a cliccare il link io per primo dove c'è tutta la struttura della tariffa doganale a livello europeo va sicuramente molto molto bene, ok, dottorio ringrazio tutte le persone che sono già intervenute e quindi come è giusto che sia, direi il riferimento principale di tutti è il portale dell'Agenzia delle Dogane, allora quello che volevo appunto capire era il portale dell'Agenzia delle Dogane probabilmente lo conosciamo tutti, ma veramente tutti immagino, credo di non dirvi niente di sconvolgente, quindi di fatto giusto perché se fosse qualche neofita della materia quando si parla di Tari, quando tutte le persone mi scrivono Tari, 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 credo che si facesse riferimento a questo link dell'Agenzia delle Dogane italiana che inevitabilmente non può che essere la fonte per eccellenza del nostro del nostro gioco. Allora, di cosa stiamo parlando? Io credo che tutti coloro che mi abbiano nominato Tariq, avevo scritto Agenzia delle Dogane Tariq, si muovono ampiamente in questa sezione nomenclature, Tariq e di fatto si muovono poi nel contesto di questo menu. Visualizza è facile, se visualizza mi stai dicendo dimmi la voce oganale e ti dirò chi sei. Questo è il gioco al contrario, è il gioco in cui io parto dall'idea di una voce oganale e sto cercando di capire quale prodotto possa corrispondere. Ok? Noi in realtà stiamo facendo un gioco opposto, stiamo cercando di partire da un prodotto per arrivare a classificarlo. Ma è chiaro che comunque se io scrivessi qua una valvola di 84-81 questo mi sta dicendo guarda che il 84-81 corrisponde all'oggetto di rubiletteria, parecchissimi ipertubi, caldaia, serbatoi, vasche, tini, recipiente simili e via dicendo. Ok, però questo non è il gioco che dobbiamo fare noi insieme oggi, noi facciamo esattamente il contrario, partire da una vasca, da una valvola e cercare di capire qual è la voce oganale. questo è l'esercizio che si voleva fare noi insieme oggi per cercare appunto di capire dato un prodotto come si va a come si possa classificare. Allora qua saltando il visualizza che quindi è la funzionalità che mi permette di partire dalla voce oganale per capire cosa corrisponde oganalmente quel prodotto così classificato voi potreste fare quella che io oso fin da subito definire una tragica ricerca per parole non saprei quale altra terminologia utilizzare perché se io scrivo tavolo ok ma come pompe per aria ok è sto un tavolo qui inizia a darmi delle insomma definizioni che non sempre mi entusiasmino avete visto io ho scritto semplicemente tavolo quindi dico ma no allora c'è qualcosa che non gira per il verso giusto allora ve lo dico subito l'ho già definita tragica ricerca per parole perché in realtà non è che dia proprio grande grande soddisfazione a chi insomma parta e io stesso sono il primo a usarlo poco e nulla è uno strumento di questo tipo per cui ritornando qua abbiamo in qualche modo escluso la visualizza perché è quello che mi fa partire dalla voce canale abbiamo in qualche modo escluso la ricerca per parole perché abbiamo capito che qualche volta qualche indicazione me la può anche dare ma la realtà è che spesso mi porta fuori strada mi fa perdere un sacco di tempo in giri assurdi di consultazione della tariffa doganale e quindi non ci rimane che l'indice TARIC l'indice TARIC è probabilmente l'instrumento per eccellenza che tutti di voi conoscete vedete la tariffa doganale il portale dell'agenzia dogane è divisa in sezioni vedete i numeri romani sezioni che condividono più capitoli è divisa in capitoli le prime due cifre della nostra voce canale individua il capitolo della tariffa doganale e via via le potete vedere tutte ovviamente la logica c'è una logica nella tariffa doganale come viene chiamata questa sezione in cui si parte degli animali vivi si va sul regno vegetale si parla quindi il regno animale il regno vegetale il regno alimentare il regno delle materie prime e via via che si sale con la numerazione dei capitoli si va verso prodotti industrialmente sempre più evoluti e quindi si raggiungono poi tutto il fantastico mondo del tessile con i capitoli da 50-63 poi si va accanto a tutti i vari capitoli per arrivare ai capitoli 84-85 che sono un fantastico mondo dei macchinari tutti i prodotti industrialmente sempre più evoluti allora ma questa gazzetta questo portale dell'agenzia dogane che cosa carica sostanzialmente carica informazioni che provengono dall'Unione Europea questo c'è chiaro noi siamo l'Italia siamo l'agenzia dogane italiana in questo caso che scrive ma la fonte nostra di riferimento è l'Unione Europea siamo il paese Italia un paese che fa parte dell'Unione Europea rispetto al codice doganale dell'Unione Europea quindi la normativa di riferimento è sicuramente il codice doganale unionale e quindi partiamo da un presupposto non banale che le voci doganali castontale fondamentature combinate adesso poi potremo darsi tutte le definizioni che vorrete sono uguali nell'Unione Europea devono essere uguali nell'Unione Europea perché devono essere uguali perché siamo figli dello stesso codice doganale siamo figli del regolamento 952 del 2013 il codice doganale unionale che detta tutti i principi doganali tra noi francesi polacchi tedeschi greci spagnoli o chi volete voi non possono concettualmente esistere differenti voci doganali per lo stesso prodotto questa è la teoria molto bella poi a livello pratico qualcuno non mi sono confrontato con vari clienti barra fornitori qui c'è un mondo di interpretazioni pazzescamente diverso può succedere in teoria non dovrebbe capitare ma poi è chiaro che la teoria è bella la pratica può essere pesantemente diversa comunque quello che deve essere chiaro e qui introduco un concetto che per qualcuno è già ci noto per qualcun altro forse meno è che le voci doganali non sono dei gioielli e non sono per sempre una voci doganale non è che l'ho scelta nel 1980 anno di fondazione dell'azienda e vada avanti tutta la vita con la stessa voci doganale cosa che in realtà ho visto fare in più di una realtà aziendale le voci doganali possono cambiare tutti gli anni sì la risposta è assolutamente sì non è detto che cambi proprio la vostra di voci doganale ma ogni anno ogni fine ottobre l'Unione Europea pubblica la gazzetta ufficiale con le voci doganali dell'anno prossimo quindi a me sono in concesso che siete aziende chiamino le procedure scritte magari siete aziende certificati ISO sotto varie certificazioni vi faccio la domanda provocatoria io a voi ma ce l'avete la procedura scritta di chi va ogni anno a verificare se le voci doganali tradizionalmente in uso in azienda sono ancora valide per l'anno successivo a chi spetta questo compito di verificare se queste voci doganali che usavo l'anno scorso avverranno anche per l'anno prossimo a fine ottobre che sia il 28 che sia il 29 30 o 31 di ottobre esce sempre la gazzetta ufficiale con le voci doganali valide per l'anno successivo chi è che va a fare questa verifica chi si scarica la gazzetta ufficiale e questo è dietro voi il volontario di turno però sa da fare assolutamente sa da fare vi faccio vedere subito la gazzetta ufficiale che stiamo usando quest'anno la gazzetta ufficiale che stiamo usando quest'anno che è quella che voi trovate nel portale dell'agenzia delle dogane è stata caricata nel portale dell'agenzia delle dogane a gennaio ovviamente ma questo è un documento che era già visibile al 31 di ottobre 2022 quindi come ogni anno puntualmente a fine ottobre esce la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea contenente le voci doganali valide per in questo caso uscita a ottobre 2022 per il gennaio 2023 a fine ottobre 2023 uscirà quella per il 2024 quindi quello che secondo me deve essere chiaro ad ogni azienda è che in novembre dicembre sono i due mesi che l'Unione Europea vi mette a disposizione per andare a verificare se le voci doganali tradizionalmente in uso saranno valide anche per l'anno successivo questa è un'attività facile da farsi basta fare l'estrazione delle voci doganali che circolano nel sistema azienda andare a verificare se sono intervenute nuove delle variazioni chi lo fa l'amministrazione l'ufficio acquisti chi volete voi per me può fare anche uno stagista nel senso che in realtà non è un lavoro concettualmente difficile perché se io vado a scorrere la gazzetta ufficiale dirà che qui mi ritrovo il solito indice che noi abbiamo visto poco fa sul portale dell'agenzia delle dogane il vedete sezione prima capitoli e via dicendo questo documento che è disponibile nel sito dell'Unione Europea sottolineo del sito dell'Unione Europea in Eurlex nel sito dove vengono pubblicate le normative unionali è disponibile fino a ottobre ma il portale dell'agenzia delle dogane è a carica a gennaio quindi questo documento che io vedo adesso voi lo vedete sul portale dell'agenzia delle dogane dal primo gennaio perché il portale dell'agenzia delle dogane vi racconta quelle che sono le voce generali in uso in questo momento mentre questo strumento che vedete adesso vi sta dando già la proiezione nell'anno successivo dandovi il novembre dicembre a disposizione per fare le vostre necessarie verifiche interne dicevo però che una voce generali non è per sempre non può essere per sempre perché il mondo è dinamico l'azienda per definizione dinamica l'azienda può oggi gestire certi prodotti e domani taluni altri quindi è chiaro che se noi fossimo ancorati che so io alla tariffa doganale del 1800 ammesso che ci fosse l'Unione Europea ovviamente nel 1800 però diciamo che se fossimo ancorati alla tariffa del 1992 o 93 che dir si voglia è chiaro che alcuni prodotti nel frattempo sono stati inventati sono stati creati le voce generali devono contemplare ogni prodotto esistente al mondo trovano l'iPhone nel 93 probabilmente non c'era oggi è un pane quotidiano e qualcuno vuol dire ok ma io faccio il prodotto più classico più tradizionale del mondo faccio la solita piastrella per dire nel mondo modenese ma molto di moda e a pensare alla piastrella non cambierà mai la voce generali non è vero tre anni fa ormai mi sembra sempre ieri ma magari sono già passati tre anni l'Unione Europea ha rivisto tutto il sistema di classificazione delle piastrelle non c'è una piastrella con la voce generali uguale agli anni precedenti perché ogni tanto si decide di rivisitare interi capitoli la tariffa doganale una volta tocca le piastrelle una volta tocca la carta una volta tocca la plastica e quindi anche se non sono intervenuti variazioni significative i prodotti le voce generali cambiano e l'azienda deve accorgersene prima di presentarsi a gennaio con le voce generali tradizionali perché le voce generali poi si bloccano nel momento in cui inseriamo una bolla in voce generali inesistente si blocca tutto allora lì abbiamo un problema sì io vi dico quando sono cambiate le voce generali delle piastrelle io che seguo molte aziende del modenese è stato il blocco dei contendi siamo più i contendi infermi di quelli che andavano perché l'azienda comunicava sempre la voce generali tradizionale delle piastrelle le spedizioni dicevano guarda che non esiste l'azienda ribatteva ma se sono 50 anni che faccio piastrelle come fanno a resistere questa voce generali perché quest'anno è cambiata te ne dovevi accorgere quindi confortiamo la signora Paola le faccio vedere subito adesso le dice ma la sua gazzetta ufficiale le pubblicano solo i codici cambiati no le ripubblicano tutti per cui in realtà quando voi scaricherete mai questa gazzetta ufficiale poi ve lo dovete scorrere tutta qui è iniziato il capitolo e dovete concentrare l'attenzione su questa parte esterna questa riga ora in questa parte esterna non ci sono simboli questo vuol dire che la voce generali dell'anno precedente è confermata nell'anno successivo non sono intervenute variazioni ma si inizia a scorrere un po' più veloce perché è chiaro che gli animali vivi è più difficile creare voce doganali nuove oggettivamente ma salendo troveremo dei simboli simboli come stelline simboli come quadratini simboli che mi evidenziano che è intervenuta una variazione su quella tipologia di voce doganale qui qualcosa è successo eccolo qua esempio queste con le stelline sono voce canali nuove non esistevano nel 2022 esistono nel 2023 ma non perché abbiamo inventato le pesche noci le peste tabacchiere c'erano già prima nel 2023 però si è voluta definire una voce donale dedicata e differenziata tra pesche tabacchiere pesche noci o altre che non siano quindi quelle pesche descritte sopra io che tratto peschi ma la pesca è sempre una pesca ok però se tu non ti accorgi della voce donale che è cambiata si blocca il mondo assolutamente il il signor Giorgio giustamente vi dice ma gli HSQ non sono frutto di politiche d'accordo di WTO ma sicuramente anche quello incide tantissimo io vi dico che nel mio piccolo ma molto piccolo anni fa ho seguito delle aziende che facevano macchinari per l'industria ceramica e non avevano la voce donale non esisteva la voce donale macchine per l'industria ceramica a un certo punto dicevano noi andiamo sempre a usare altre macchine generiche altre macchine nominate ne comprese altrove e gli dicevano ci crea un sacco di problemi ma non possiamo avere una voce donale delle macchine per l'industria ceramica tramite l'associazione di categoria andiamo a chiedere a Bruxelles se ci fanno una voce donale per le macchine dell'industria ceramica e siamo andati li abbiamo accompagnati personalmente ci hanno ascoltato ci hanno detto ma voi quante aziende rappresentate 400 aziende solo in Italia l'anno dopo voce donale macchine per l'industria ceramica perché era un interesse diffuso ora l'Unione Europea ha perso anche del tempo a definirmi la voce donale per le macchine dell'industria ceramica e un'altra aziendina a Bologna molto più piccola che fa le bolle di sapone per i bambini che conosciamo tutti anche loro non hanno la voce donale delle bolle di sapone per i bambini anche loro sono costretti ad usare la voce donale generica altri giochi che gli crea un sacco di problemi perché più la voce donale è generica più vengono segnati dei warning degli alert e crea problemi ma la posso avere la voce donale per le bolle di sapone ho già fatto il percorso con le macchine dell'industria ceramica e ripercorriamo la stessa strada ma quando siamo arrivati ai WorkSales hanno detto ma voi ma quante aziende rappresentate siamo guardati intorno quanti ci hanno seguito in quattro non avrete mai la voce donale per le bolle di sapone è un interesse troppo piccolo perché l'Unione Europea perde del tempo a definire una voce donale dedicata questo per darvi un'idea allora però questo gioco ok quello la signora Martina sta dicendo questo può essere un consiglio magari anche per altri che quel link che ci aveva già segnalato prima che ha solo il difettuccio di essere in inglese però insomma se tutte aziende che lavorano con l'estero e magari insomma l'inglese non rappresenta per nessuno un ostacolo dice quando si inserisce in un tariff number non più valido rimanda direttamente al nuovo sicuramente è un ottimo un ottimo strumento visto da questo punto di vista non c'è dubbio però quello che voglio sostanzialmente che passi come concetto chiaro è che qualcuno questo controllo lo deve fare tutti gli anni chi lo fa decidetelo voi per me deve essere proprio una procedura come avete le procedure per fare qualunque cosa in azienda io pretenderei che ci fosse una procedura per definire l'eventuale cambio di voce canale quindi ogni fine ottobre qualcuno si ferma ogni fine ottobre qualcuno va a caccia della gazzetta ufficiale ogni volta qualcuno va a verificare se sono intervenuto o no delle variazioni se la scorre guarda io ho la sensazione ma una sensazione perché non lo uso come strumento quello che dice signora Martina che il cambio mi dice che la voce canale è nuova ma questo me lo dica da gennaio ho la sensazione che non possa funzionare da ottobre però se funzionasse anche prima meglio però io ho l'esigenza che voi vi muoviate con ampio anticipo non arriviate passivi a gennaio per scoprire che la voce canale quando la merce è ferma in dogana non esiste più dobbiamo prevederlo questo gioco allora ogni fine ottobre che sia novembre che sia anche per il dicembre scarichiamoci la gazzetta ufficiale scarichiamo tutte le voce canale in uso in azienda andiamo a vederle quando trovate la stellina è chiaramente una voce canale nuova quindi questa voce canale se vado a vedere la gazzetta ufficiale 2022 non la trovo questa 08, 09, 30, 80 e potrei trovare invece delle simbologie diverse questo è un anno in cui ne sono cambiate poche di voce canale il trapasso 2022-2023 ne sono cambiate davvero poche ma il trapasso dell'anno precedente 2021-2022 ne sono cambiate un fiume di voce canale ecco seate qui gestiremo circa un se non sbaglio 16.000 voce canali l'anno scorso ne sono cambiate 800 quest'anno l'ultimo trapasso ne saranno cambiate 200 quindi insomma una proporzione sicuramente diversa tenete presente che dove c'è la stellina stiamo parlando chiaramente di una voce canale nuova se trovassi a fianco invece che la stellina un quadratino quindi al posto la stellina trovasse un quadratino mi sta segnalando che la voce canale è rimasta invariata nella sua estensione a otto caratteri ma è cambiato il contenuto del prodotto da essere rappresentata quindi attenzione alla simbologia perché anche il quadratino mi sta segnalando un warning mi sta dicendo guarda che la voce canale se la guardi è uguale ma i prodotti da essere rappresentati possono essere assolutamente cambiati quindi ovviamente quando la cerco ne trovo neanche una però questa è la simbologia che potreste incontrare consultando il tutto poi è vero con un po' di calma l'agenzia del organe pubblica anche la cosiddetta tabella delle trasposizioni a un certo punto mi dice anche guarda che la voce canale che è contraistinta alla stellina nasce dalla vecchia voce doganale che non esiste più quindi mi dà quella tabella di confronto che mi permette di dire qual era la voce canale vecchia e cosa è diventata nella nuova un po' quello che ci stava già cortesemente segnalando la signora Martina che nel suo portale già avviene automaticamente ma ho la sensazione che avvenga a gennaio perché prima sono dubbioso che possa essere già così funzionante ok e la signora Martina mi sta chiedendo l'aggiornamento della tarica contestuale alla pubblicazione della gazzetta ufficiale io vi dico la gazzetta ufficiale viene pubblicata a ottobre l'agenzia delle dongane lo carica a gennaio perché l'agenzia delle dongane è uno strumento operativo che vi sta dicendo cosa succede oggi ok quindi in realtà non è aggiornato in tempo reale è aggiornato indifferita chiamiamolo così quindi voi dovete per forza attivarvi con ampio anticipo andare a scrivere questo documento ufficiale per andare poi a definire se sono intervenuti o meno cambiamenti questa è la prima procedura che io pretenderei esistere in azienda una procedura semplicissima rivadisco secondo me alla portata di chiunque perché solo verificare se le voci organali sono ancora esistenti lo può fare veramente anche chi non è tecnico della materia chi non è tecnico da un punto di stato organale chiunque nel momento in cui ci fosse invece una stellina un quadratino qualcuno deve alzare la mano dicendo qualcosa è cambiato qualcuno si attivi e cerchi di capire qual è la nuova voce organale rappresentativa del prodotto questo quindi per me è la procedura semplice quella che io definisco una procedura sul mantenimento delle voci organali ma in realtà il nostro gioco di oggi era più complesso ma molto più complesso l'idea della chiacchierata di oggi verte sulla definizione delle voci organali quindi adesso io vi ho detto poco o nulla adesso interrompo la condivisione in questa cazzetta ufficiale vi ho detto poco o nulla da questo punto di vista quindi a novembre dicembre se i cambiamenti vengono pubblicati a ottobre vanno usate ancora le voci organali vecchie sì le nuove da gennaio quindi proprio questo che può creare confusione non viene caricato sul portale dell'agenzia organale nulla di nuovo perché il portale dell'agenzia organale pubblica quello che è operativo giorno su giorno quindi voi avete la necessità di scaricarvi la casetta ufficiale a ottobre verificare i cambiamenti e applicarli da gennaio nel novembre dicembre anche se la voce organale è cambiata andate avanti con la vecchia voce organale questo è il concetto che dobbiamo fare nostro assolutamente allora se la procedura sul mantenimento delle voce organali credo sia chiara e non crei sconvolgimenti particolari in nessuno noi siamo qui per dicevo per definirle queste voce organali capire quali sono gli strumenti oggi qualcuno mi ha sicuramente elencato qualche strumento che è stato usando la tariffa adoganale taric intesa come portale dell'agenzia adoganale rimarrà al nostro filo conduttore ma non è tutto tutto lì qualcuno già mi ha citato note esplicative trovo c'è un riferimento alla dogana svizzera e questo sarà un suggerimento pratico che mi sentirò di dare a tutti con le dovute cautele perché ovviamente alla dogana svizzera non c'entra assolutamente nulla con la nostra dogana però vedremo che io cercherò di darvi strumenti anche pratici non solo teorici perché altrimenti insomma il nostro webinar non vi arricchisce di nulla invece voglio che usciate di qui con qualche strumento in più a disposizione ma allora ripartiamo dal portale dell'agenzia adoganale ripartiamo e vediamo dove siamo in grado di arrivare insieme allora portale dell'agenzia adoganale ma sono completamente perduto scusate ok va bene allora il portale c'è devo solo condividerlo perfetto condividi adesso sono 10.000 cose aperte non va bene schermo prima o poi ok vedo che state vedendo anche voi il portale dell'agenzia adoganale allora io vi dico una cosa abbiamo capito che le nostre voci adoganale intese come aziende italianissime aziende europee sono frutto di un regolamento comunitario perché quel documento che noi abbiamo visto poco fa che è caricato qui sul portale dell'agenzia adoganale è frutto di un regolamento comunitario quindi di una legge unionale quindi identica per tutti i paesi dell'Unione Europea per questo dicevo non possono esistere differenti classificazioni tra noi francesi polacchi greci e chi volete voi nell'Unione Europea ma se è assolutamente vera questa affermazione e non ha nessun timore di smentita è chiaro che voi siete aziende che hanno un panorama spesso mondo davanti a voi siano essi clienti siano essi fornitori ma avete sicuramente anche delle relazioni con paesi extra comunitari allora qui dobbiamo fare delle volontazioni diverse quando vi interfacciate con gli extra comunitari perché la nostra voce edoganale il nostro cast on tariff classico di quanti campi si compone è uno stretto mondo intraunionale non c'è dubbio alcuno otto la nostra nomenclatura combinata come viene chiamata otto cifre per le cessioni otto cifre per gli acquisti per tutto ciò che si movimenta in un contesto Unione Europea ma se noi usciamo dai confini unionari andiamo ad interfacciarsi con clienti fornitori extra comunitari il gioco cambia ma cambia anche pesantemente perché nessuno è tenuto a riconoscere un regolamento comunitario al di fuori del territorio della UE e parlando di voce canali posso dirvi che per esportare noi usiamo la stessa voce canale otto cifre che usiamo nel mondo intracomunitario ma per importare da extra UE la nostra voce canale deve andare a 10 carattere non più 8 10 carattere raggiungendo quello che viene proprio chiamato il codice taric la nona e la decima cifra non sottovalutate la nona e la decima cifra perché il dazio può cambiare sensibilmente quindi con la nona e la decima cifra non è innocua nel vostro mondo dell'import però quello che voglio dirvi in realtà che volevo dirvi poi mi sono perso nel mio ragionamento logico è che se è vero che le nostre voce canali sono uguali in tutta l'Unione Europea tra noi francesi polacchi tedeschi gli spagnoli quando andate a parlare con gli extracomunitari le voce canali per almeno per tutti quelli che sono i paesi civilizzati del mondo sono uguali nelle prime 6 cifre quindi quindi cosa voglio dirvi che se io mi interfacciassi col messicano con l'americano col brasiliano o chi volete voi l'inglese il nominabile inglese oggi come oggi se io chiedessi al mio fornitore inglese dimmi la voce canale lui può dirmi quella inglese quando vado nella tarica a volte dico ma non esiste ma quello è un matto mi sta dicendo voce canale inesistenti probabilmente mi ha detto quella inglese l'esercizio tipico dell'importatore è quello di chiedere ai fornitori le voce canali chiedere schede tecniche e andare poi a riclassificare il prodotto secondo criteri europei e allora cosa tengo di buono nella comunicazione che mi fa il fornitore extra well le prime 6 cifre se anche mi desse una voce canale 8 caratteri io tengo buone le prime 6 cifre che accomunano tutti i paesi che aderiscono al WTO World Trade Organization l'OMC l'Organizzazione Mondiale del Commercio tutti questi paesi e sono più di 200 paesi al mondo hanno le prime 6 cifre sempre tassativamente uguali sì peccato che io devo fare import devo arrivare a una classificazione a 10 quindi chiedo al cinesino mio fornitore dimmi la voce canale mi comunica la sua cinese 8 cifre la guardo nella tarica non esiste prendo le prime 6 aggiungo le seconde 4 con criteri unionali e ho la voce canale per fare import ma chi la definisce la voce canale per fare import voi eh gli importatori la responsabilità è sotto l'esclusiva esclusivamente sotto la responsabilità dell'importatore chi si intesta alla voce canale di import risponde di tutto il contenuto di dichiarazione canale voce canale compresa se hai una maledetta al cinese va bene se ti ha detto una stupidata al cinese cambiala siete voi che date il mandato allo spedizioniere siete voi che autorizzate la missione della voce canale di import siete voi che dettate le conferme dei valori delle voce canale di tutto quello che serve per fare import se la voce canale sbagliata è cambia il dazzo cambia l'icoda IVA di che colpa la dogana mica va a cercare il cinese in Cina è colpa dell'importatore che sta doganando ma me l'ha detto lui non vale niente voi dovete assolutamente gestire la corretta attribuzione delle voce canali in import e in export in export mi viene più naturale sì perché sapete quello che vendete in import non esiste che mi diciate non so cosa sto comprando insieme a me ufficio amministrativo non lo so davvero cosa sto comprando può essere ma dovete fare un'indagine interna chi ha fatto l'acquisto l'ufficio acquisti chi ha parlato col fornitore chi ha la scheda tecnica chi conosce i tecnici del prodotto chi è in grado di definire la voce canale stabilitelo voi in azienda ma qualcuno lo deve fare in import si arriva a voce canali a dieci caratteri sottolino dieci caratteri faccio toccare con mano questa esperienza di vita indimenticabile io per l'esercato delle voce canali vado su prodotti industriali perché altra volta l'84 era il capitolo più richiesto da tutti vado a vedere un attimo l'8422 che era una vedete ho scelto un capitolo sbagliato non ci sono dettagli a dieci cifre discriminanti tutti ho preso gli esempi più sbagliati del mondo vediamo un 8481 che sono sicuro esserci ok 8481 ecco vedete questo è il nostro oggetto di rubinetteria voi dovete arrivare a definire una voce canale a otto cifre questo 8481 1005 è una voce canale utile per esportare non per importare se dovessi importare questi valvoli di riduzione della pressione combinati con filtri lubrificatori mi chiedono scegli col 10 o il 90 finale devi dirmene una perché con questa cifra è a otto tu non puoi importare il finale il 10 o il 90 chi lo stabilisce? voi aziendalmente allora io voglio far vedere questa esperienza operativa se io clicco sul portale dell'agenzia dogane per la cronaca per chi avesse perso i primissimi secondi della nostra chiacchierata siamo sul portale dell'agenzia dogane taric clicco sulla voce canale a otto cifre lui mi sta dicendo misura esportazione dimmi dove vai e ti dirò chi sei mi sta facendo fare una simulazione sull'export dimmi in quale paese vuoi andare prendo uno a caso e ti dirò se ci sono dei problemi mi sta dicendo ad esempio qui c'è un warning un potenziale rischio di bene duale e non vuol dire che lo sia vuol dire che potrebbe esserlo quindi tua azienda devi per poter esportare questo prodotto in questi nostri esempi in Argentina devi verificare se il prodotto è realmente duale sì o eventualmente duale non fosse ma se io vado indietro e clicco su una voce canale di queste a dieci cifre vedete che lui mi propone subito import quando ho cliccato sulla voce canale a otto lui mi sta già facendo una simulazione all'ex dicendo con l'otto cifre puoi solo esportare se faccio la simulazione con le dieci cifre lui mi si pone subito come importatore e al di là del fatto che qui il portale se è cominciato a succedere se è piantato e continua a propormi export in realtà lui dovrebbe già ragionare solo in import perché sta ragionando su una voce canale in import state attenti anche a questo gioco che con alcuni browser si pianta il portale dell'agenzia le dongane quindi in realtà però lui dovrebbe farmi una simulazione in import perché qui sta parlando di importazione quindi adesso dovrei uscire e rientrare per farvi toccare con mano che si ragiona sul lato import ok va bene a parte queste nostre considerazioni io vi dico questo quali strumenti conosciamo allora per andare a definire le nostre voci doganali torno indietro un attimo indietro allora non so se siete voi volontari che definiranno le voci canali in azienda sì o no siete frutto di un sorteggio di fine anno che viene appioppato questo ingrato compito però gli strumenti li dovete conoscere allora io credo che voi vi muoviate già qua dentro ma non so come vi muoviate dentro il portale dell'agenzia e dongane io ho esperienze ripetisco quasi trentennali purtroppo ormai dove quando l'azienda si trova qua inizia a dirmi ma io so che ho un macchinario quindi vado direttamente al capitolo 84 il resto non leggo niente non c'è tempo non c'è voglia macchine e apparecchi mio sono le mie quindi vado direttamente nel capitolo 84 vado a cercare quelli che vengono chiamati sotto capitolo la terza e la quarta cifra cerco la descrizione più vicina al mio mondo quindi quello che è l'esempio di prima che ho visto riguardando le voce generali della volta scorsa diverse aziende trattano questo tipo di prodotti lavastoviglie e company vado diretto e poi inizio a ragionare ecco non so se questo è il percorso logico che fate tutti temo di sì temo forse non tutti tutti non posso generalizzare però molti forse ragionano davvero così però se questo è vero avete perso un sacco di strumenti avete omesso di leggere un sacco di cose è vero che dice ma io l'azienda non ho tempo di fare queste letture culturali doganali quindi non c'è tempo non c'è voglia vado così ed è già buono che faccia così può essere anche vero però allora io vi ripropongo la gazzetta ufficiale che abbiamo visto prima la stessa che abbiamo visto prima quella che è uscita a fine ottobre ve la ripropongo per farvi notare un particolare che in pochi penso abbiano letto nella propria vita qualcuno potrebbe rispondere se mai sto benissimo così senza aver mai letto questa gazzetta ufficiale ci sta anche questo di finale ma questa gazzetta ufficiale come inizia parti saluti dell'Unione Europea allegato primo nomenclatura combinata allora qui cosa mi si dice sommario regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata vai a pagina 15 chi c'è mai andato a pagina 15 di questa gazzetta ufficiale siete in 104 forse 4 o poco più io credo che in pochissimi siete andati a leggere le regole generali per l'interpretazione nomenclatura combinata eppure inizia una pagina 15 e finisca una pagina 16 non vi sto facendo leggere tutte le 1093 pagine di questo pdf sto facendo leggere una pagina una pagina che è la meno letta dagli italiani mi permetto ovviamente di scherzare ma andiamocelo a vedere almeno come è fatta questa regola generale no allora ci arriviamo eccola qua la nostra pagina 15 regole generali per l'interpretazione nomenclatura combinata adesso qui non abbiamo né tempo di voglia di leggere sarà tutto però ho detto io oggi non ho la pretesa di risolvere i vostri problemi delle vostre generali solo di mostrarvi gli strumenti che avete a disposizione perché molti magari lo conoscono già questa pagina altri non l'ha mai letta ci sono dei principi che sono pazzescamente importanti perché quando vado ad avventurarmi dentro con la gazzetta ufficiale devo saperla leggere se non lascio leggere faccio dei disastri inenarrabili assolutamente inenarrabili vedete il punto uno che è uno dei più importanti non è caso il punto uno mi dice i titoli delle sezioni i titoli dei capitoli i titoli dei sotto capitoli sono da considerare come puramente negativi di cosa sta parlando sta parlando del fatto che nel portale dell'agenzia non so mai quando faccio questi rimpalli cosa vedete voi quindi esco e rientro che sono più sicuro di quello che sto mostrando quindi con tv di schermo ok sta dicendo che i titoli delle sezioni calzature questo sta parlando di questo i titoli dei capitoli quello che trovo a livello delle prime due cifre i titoli dei sotto capitoli quello che trovo a livello di tre qualsiasi cifra sono puramente indicativi non hanno valore di legge sono puramente indicativi mi aiutano ad orientarmi nella tariffa doganale ma non sono quelli gli strumenti principali a cui dobbiamo fare riferimento invece credo che siano nel 90% dei casi dell'azienda l'unico riferimento che si vada a consultare nel momento in cui si sta cercando di definire la voce doganale allora quindi posto che ho capito che la tariffa doganale in export è fatta di otto cifre in import di dieci la logica è che le prime due cifre individuano il capitolo quindi capitolo 64 mi sta dicendo sono calzature le terze e la quarta cifre individuano il sotto capitolo quindi e lo dico anche così tra lo scherzoso e il serio ma qui ho proprio un blocco mentale mio personale quando un'azienda mi dice una voce doganale me la deve dettare a due a due le cifre 6401 4080 la capisco se inizia a darmi i numeri non a due a la volta io vado in crisi non so più scrivere una voce doganale ve lo dico perché il mio blocco mentale è che le prime due cifre sono capitolo sotto capitolo voce sotto voce taric sono proprio una struttura logica per me insuperabile ma credo che sia giusto che tutti voi impariate a leggere i tariffi doganali a due a due se potete naturalmente niente di obbligatorio a dove volevo portare la vostra attenzione in realtà che se voi avete quindi letto e ve lo faccio rivedere questa regola numero uno della tariffa doganale allora che cosa mi stanno dicendo i titoli delle sezioni dei capitoli dei sotto capitoli sono a considerare come puramente indicativi quindi ok leggiteli ma non sono quelli che hanno forza vincolante poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente quindi ciò che ha forza di legge è il testo delle voci quindi l'evozionale ha otto cifre delle note premesse alle sezioni delle note premesse ai capitoli e occorrendo dalle norme che seguono quindi in realtà mi sta dicendo che le letture che dovrei farmi sono altre letture che non so se avete mai fatto ma che a questo punto sarà necessario dover fare e poi ritorneremo in queste regole generali per intervizzare una mancatura combinata ma di fatto di cosa mi stanno dicendo di dover fare sta dicendo di andare sul portale dell'agenzia delle dogane e condividendo ok sta dicendo leggiti le note introduttive alla sezione qualcuno potrebbe dire ma dove stanno queste note introduttive alla sezione che mi hai appena citato in quella pagina 15 qua cliccando sul numero romano si aprono le note introduttive alla sezione quindi sta dicendo questa sezione non comprende e sta buttarmi fuori con tutta una serie di prodotti che io forse potrei pensare erroneamente di classificare in questo mondo ma starei sbagliando solo se si facendo perché si è già scritto delle note introduttive alla sezione che non dovevo stare qua dentro per cui i cappelli mi sta dicendo vai pure a cercarli nella 05 qui sono i capelli i capelli vai a cercare nella 05 01 qui non ci devi neanche entrare e via dicendo con tutta una serie di esclusioni che sono talmente palesi che se io non l'ho mai letto non posso magari accorgermi dell'errore che sto commettendo ma anche la donna leggerà sempre e la donna si mette due secondi e allora dimmi guarda che i capelli qua dentro non ci dovevano stare come fai a dirmelo c'è scritto ma io non l'ho letto fatta ci tuoi la regola numero uno mi diceva leggiti le regole generali di introduzione alla sezione perché non l'hai letta non sapevo di doverlo fare problema tuo come sapete l'ignoranza non è ammessa da questo punto di vista per cui le regole generali della sezione a volte sono nutrite a volte sono scarne a volte sono quasi inesistenti però vanno lette perché mi danno una serie di spunti che hanno valore di legge perché se è vero che il titolo è esemplificativo il testo ha valore di legge questo è un regolamento comunitario quindi non posso non leggerle adesso vi sfido apertamente in quanti se siete letti le note introduttive alla sezione magari vi dice tutti 101 vedete sì sì la nostra lettura serale preferita non ci credo può essere che qualcuno l'abbia fatto davvero ma meglio chiaramente se siete già a questo livello per me è già un buon punto di partenza se voi si dice no ma noi non sapevano anche esistere allora questo c'è un primo strumento c'è un secondo perché il primo è la lettura delle regole generali dell'interpretazione della vincatura combinata secondo step entriamo nelle sezioni ogni sezione ha le sue note introduttive vedete questa le calzature non c'è scritto nulla allora che bello non devo leggermi nulla vero altre sono ancora una volta più o meno nulle ma se vado accanto adesso io capito nel 45 le note introduttive alla sezione sono belle corpose e quindi vedete al di là dell'escludermi che in alcuni casi sempre le note servono ad escludere mi dicono questo prodotto qua dentro non ce lo puoi classificare mi rimandano ad altre parti della tariffa mi dicono qui non ci scusate non posso cliccare qui non ci devi entrare perché devi andare in un'altra sezione e quindi vatti a leggere a 40 diesi nel caso di queste cinghie di trasmissione di gomma gulcanizzata quindi è un po' questo il gioco che vi si sta chiedendo di fare e Roberto confessa mai fatto ovviamente penso che sia in buona compagnia ma questi sono pensieri miei personali quindi non ho motivo di dubitare di tutti i partecipanti però io vi dico fatelo perché la dogana lo fa e se la dogana lo fa la dogana vi contesta se la dogana vi contesta voi non potete dire ma non lo sapevo non è ammesso è la pagina 15 che poi è la pagina 1 a livello di normativo di quel regolamento comunitario vi sta dicendo di fare esattamente questo esercizio allora attenzione che vi sto regalando una serie di consultazioni serali perché queste sono letture da fare sul comodino perché abbiamo risolto un sacco di problemi di insonnia a tante aziende l'obiettivo del corso è anche quello di risolvere problemi di insonnia quindi voi leggete questi testi e dormirete che è un piacere ma se l'inferimento era alle note introduttive alla sezione abbiamo capito dove trovare le note introduttive alla sezione quella gazzetta di prima mi citava mi fa riferimento anche alle note introduttive del capitolo mi sta dicendo guarda che questi titoli della sezione leggiteli ma sono puramente negativi questi titoli del capitolo sono puramente negativi leggiti le note introduttive al capitolo ma dove stanno le note introduttive al capitolo stanno qua sotto il naso clicco questa volta non sul numero come fanno il 99% dell'azienda ma clicco sulla parte descrittiva del capitolo 84 e mi si aprono le note introduttive al capitolo e ridaglie con le esclusioni questo capitolo non comprende e mi ributta fuori con tutta una serie di prodotti che evidentemente non posso classificare qua dentro non posso e ma non l'ho mai letta fatta città te li dovevi leggere quindi io vi dico chiaramente queste note introduttive alla sezione al capitolo non è che vi risolvano necessariamente i problemi però però vanno lette perché qui ci sono delle spesso più aperte esclusioni qualche aperta inclusione ma più aperte esclusioni quindi se io non me le leggo non mi accorgo che sto già prendendo una cantonata pazzesca poi la donna ci mette un attimo a contestarmelo per cui io credo che qui sia una lettura necessaria la definirei assolutamente tale non necessariamente esaustiva non necessariamente che risolve tutti i vostri problemi di classificazione del prodotto però vale certamente la pena di dedicare qualche minuto perché poi in realtà qualcuno ha parlato ad esempio dell'8422 che è una delle vostre canali che era stata segnata la volta scorsa non so se è presente anche oggi la stessa azienda mi dicono non rientra nell'8422 scusate che clicco questo brutto difetto di cliccare non rientra nell'8422 le macchine da cucire che avrei forse pensato allenamenti di classificare qui perché mi dicono devi andare al 8452 e se ho classificato il 8422 le gana tre secondi mi contesto alla voce canale è assolutamente normale quindi la Silvia è presente è anche la signora Barbara quindi i loro 8422 non sono macchine da cucire quindi tirano sospiro di sollievo non sono neanche macchine apparecchi per l'ufficio quindi questa aperta esclusione evidentemente non le riguarda però era giusto assolutamente andarlo a consultare perché se ci fosse stato scritto che la macchina per l'industria alimentare qua dentro non ci andava avremmo già sbagliato semplicemente tutto ok e quindi adesso non ce le leggiamo ovviamente tutte le note introduttive ai vari capitoli a me interessava sostanzialmente farvi notare che ogni capitolo ha la sua nota introduttiva e credo che in pochi si siano lette tutte queste note introduttive la sezione note introduttive al capitolo eppure sono letture consigliate dal regolamento comunitario ma non sono solo consigliate sono legge questo testo ha valore di legge vale più quello che c'è scritto dentro questa nota del titolo stesso assolutamente quindi diciamo per un attimo che dando per scontato che dopo questa interessante lettura delle note introduttive al capitolo le note introduttive alla sezione abbiate le idee più chiare il di prima allora che cosa possiamo raccontarci che finisce qui la nostra storia di classificazione del prodotto il allora diciamo che no assolutamente stiamo solo elencando e siamo solo all'inizio gli strumenti che devono essere utilizzati ne avremo tanti altri a dover verificare insieme adesso vediamo di continuare la nostra lettura così non la dovete fare questa sera e mi dicono i titoli delle sezioni in capitoli puramente indicativi ciò che ha valore legale sono le note premesse alle sezioni o ai capitoli e alle norme che seguono qui non ce le leggiamo voglio tranquillizzare non voglio togliere le letture serali ma qui ci sono una serie di principi che la donna userà sempre per classificare un prodotto ci sono principi che se noti se conosciuti sono semplici da applicare ma se non noti mi creano un sacco di problemi e qui potrei solo con due parole rovinare la vita per sempre perché sia chiaro il webinar di oggi vi rovinerà la vita per sempre perché a questo punto la voce più specifica deve avere la priorità sulle voce di portata più generale è uno dei capi saldi del classificazione endoganale ed è esattamente il contrario di quello che vedo fare tutti i giorni in azienda spesso le aziende mi chiamano e dicono voglio una voce endoganale calderone voglio una voce endoganale in cui ci metto tutto lo scivile possibile l'immaginale e tutti i meri cambi devono finire lì dentro non si può è proprio apertamente in contrasto la voce endoganale più precisa se esiste prevalica la più generica la più generica va bene se non esiste la precisa quindi non esiste la voce endoganale calderone qualcuno si aggrappa disperatamente sempre la voce endoganale parti di macchina bellissima la voce endoganale parti di macchina usatissima abusatissima oserei dire perché molti macchinari hanno la voce endoganale parti di macchina verissimo allora la posso usare per tutto lo scivile immaginabile ni non è né né no né sì è un ni cosa vuol dire ni vuol dire che per quegli oggetti che io sto costruendo disegno customizzati costruiti solo per la mia macchina che se li può comprare solo chi ha la mia macchina probabilmente la voce endoganale parti di macchina è veramente la voce endoganale di riferimento ma tutti quegli oggetti non a disegno quegli oggetti di cura commercializzazione il cuscinetto oggetti di questo tipo la guarnizione che io compro e rivendo è vero la rivendo per la mia macchina ma in realtà è una normalissima guarnizione nel normalissimo cuscinetto è giusto che lo classifichi a parti di macchina per me la risposta è no lì esiste la voce endoganale della guarnizione esiste la voce endoganale del cuscinetto e quindi devo attribuire la voce endoganale precisa e puntuale questo sa da fare è quello che dobbiamo fare sì la risposta è assolutamente quella così come vedete qui sono quei principi che sono per molti forse un pane quotidiano per molti forse sono principi arcinoti ma il fatto che io spedisca un macchinario smontato ad esempio dentro un container cosa devo classificare la vite a vite il bullone a bullone come voce endoganali no è un macchinario sia pur smontato è un macchinario ma non lo deco io che sono del nevo che non conto niente lo dice il regolamento comunitario sta dicendo che se manda via un prodotto anche se incompleto non finito o anche se smontato ma è che comunque abbia le caratteristiche essenziali del prodotto finito è da considerare già prodotto finito quindi classico per le aziende che in Parma non mancano che fanno impiantistiche che fanno macchinari e il macchinario è un macchinario punto a una voce generale univoca non devo andare a classificare ogni prodotto con la sua specifica voce doganale no ecco Silvia dice anche se le guarnizioni sono fatte a disegno ecco su questo si potrebbe discutere perché se la guarnizione è fatta a disegno potrebbe diventare una parte di macchina perché è una guarnizione che ha assunto una specificità tale che non se la comprerebbe nessuno se non avesse la mia macchina mentre la guarnizione standard probabilmente rimane guarnizione quindi questa potrebbe essere ancora una volta una sfumatura sul tema se la Marianna sta scrivendo noi forniamo ai nostri clienti degli impianti di distribuzione d'aria smontati composti da valvere corderie varie tubi in gomma tubi in ferro eccetera ok per me questo è un classico se io è oggetto della fornitura è il quello che frate perché mi hai passato una domanda quindi mi si è spostata la chat può essere classificata una voce di un canale sola la domanda era quella sì per me è un macchinario e se la Silvia invece ha seguito la domanda di prima se c'è non il dubbio e consideriamo guarnizione non parti ci sta cioè alla fine quella guarnizione seppure customizzata la vivo come una guarnizione può rimanere anche come guarnizione certo che se non è customizzata è sicuramente una guarnizione e nessuno può eccepire nulla nel momento in cui è customizzata si potrebbe discutere andrebbe analizzata un po' con calma se possa diventare una parte di una macchina o meno se noi spediamo mobili ovviamente sono tutti inviati e smontati è sbagliato utilizzare la voce di un canale delle parti di mobili in legno per me sì perché cioè se la signora Martina sta dicendo che vende mobili l'oggetto della vendita non è l'anta cioè se io vendo un'anta di un mobile è una parte di un mobile non c'è dubbio alcuno ma se io vendo il mobile smontato fatto di ante battenti tutto quello che serve maniglie e quant'altro per me è un mobile sia pur smontato è un mobile vuol essere una unica ed è il principio proprio che traiamo da questo concetto che stiamo vedendo noi insieme adesso quindi perché parti di mobili forse perché l'idea è quella di dire vabbè è smontato è un mobile fatto a pezzi sono solo parti no io sto vendendo il mobile nella sua interesse sia pur smontato è questa la logica che dovremmo andare a insomma individuare insieme quindi io signora Martina consiglierei se è vero che l'oggetto della compravendita è tutto il mobile andarlo a classificare a mobile di legno a seconda poi del materiale da cui è formato ovviamente la versione può cambiare ma andrei certamente a classificarlo come come mobile finito in questo caso ok quindi va bene quello che volevo sostanzialmente farvi notare è che qui qualche principio importante lo trovate ai prodotti misti come andare a classificare quindi poi è già finita siamo già arrivati al punto 6 sono già finite le regole generali per l'intervenzione alla vincatura combinata quindi questa è una lettura che in 5 minuti 10 minuti la si fa poi la si può anche rilevare più volte però non ci sto facendo perdere le giornate a definire quindi quello che dico è quel famoso team ormai tristemente famoso team i volontari che dovranno definire le voci doganali deve conoscere questo testo deve averlo letto io il team lo costruirò quindi con chi ha competenze tecniche di prodotto chi sa vita, morte e miracoli dell'oggetto chi conosce le sinti base chi sa leggere le sinti base con chi conosce questi strumenti allora insieme sì che possiamo combinare qualcosa di buono a me piace anche l'idea del team per un altro motivo o almeno due più uno perché definire la versione è una responsabilità grossissima sbaglio la voci doganali mi viene un verbale da due milioni e due e non mi sento proprio tranquillo del mio futuro in azienda perché secondo me qualche responsabilità me la sento anche addosso aver scelto la voci doganali è sbagliata ma anche perché in realtà voi potreste anche diventare i manchi delle voci doganali gli esperti più esperti che non ci siano nel panorama dell'attribuzione delle voci doganali però poi se a un certo punto bravi che siate cambiate azienda l'azienda punto a capo non sa classificare il prodotto non ha più paglia di idea di come venirne fuori allora l'azienda ha perso tutto il suo know-how con la perdita del dipendente invece se ci fosse un team che condivide queste competenze si accetta anche un turnover uno entra uno esce e a un certo punto ovviamente sì l'azienda va avanti con le proprie competenze quindi a me piace l'idea del team per condividere esperienze per condividere responsabilità per diventare tutti insieme ognuno a mondo proprio esperti per dare anche continuità all'attività di classificazione doganale dei prodotti dell'azienda la Martina mi sta dicendo il problema che molto spesso con un carico si invia una parte un altro carico un altro pezzo l'oggetto nella sua interezza spesso non è spedito insieme questo è un problema pratico sta segnalando la Martina con i suoi mobili magari andasse tutto nello stesso container ma a volte va via in container separati io vi dico che in realtà è lo stesso io continuo a vendere un armadio un mobile è chiaro che naturalmente però un gioco è molto più complesso fosse tutto il suo container faccio il prezzo a dimostrare che rimettendo insieme i pezzi compongono il mio mobile finito andando accanto a spedizioni differenti con dichiarazioni organali differenti sono d'accordo col pensiero della Sanna Martina mi sto complicando la vita a dichiarare un mobile finito perché quando aprono il singolo container il mobile non c'è allora dovrei fare delle spedizioni parziali come si chiamano cioè dovrei andare in dogana dicendo questa è la spedizione 1 di 2 quindi sto vedendo un mobile con una fattura unica questo è il primo container di 2 tra poco arriverà il container 2 di 2 se riguardi la solitarezza del container 1 più 2 trovi ancora il mobile però dovrei fare la stessa dogana è chiaro che quindi se avessi certezze di questa dinamica potrei uscirne anche vivo senza certezze di queste dinamiche forse mi sto complicando oltremodo la vita ok allora comunque questa che mi sto in qualche modo regalando era la casetta ufficiale che di fatto ci definisce quelle che possono essere il le voci cioè le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata il allora diciamo che superata questa brillante lettura se ritorniamo al portale dell'agenzia delle dogane e possiamo anche ritornarci insieme allora cosa facciamo ok noi ci eravamo lasciati comunque sempre qua allora cosa dobbiamo fare a questo punto beh se le note introduttive alla sezione se le note introduttive al capitolo non mi hanno buttato fuori perché abbiamo capito che hanno una tendenza generale a escludermi tra l'uniprodotti io posso finalmente entrare nel capitolo cosa che invece molti forse avevano già fatto prima senza aver letto queste note introduttive meno il capitolo ci entra a questo punto e a questo punto inizia un'altra caccia al tesoro inizia la logica di dire ok ma se uno 8401 8402 03 0405 chi sono qual è il mio sottocapitolo come viene chiamato perché la terza e la quarta cifra individuano il sottocapitolo della mia voce doganale sia sia di import sia sia di export allora diciamo che io posso entrare prendiamo il turboreattore 8411 ok ma leggo turboreattore turbopropulsore altre turbine a gas sono le mie o non sono le mie ho qualcosa che mi conforti per capire se le prime quattro cifre quindi il capitolo il sottocapitolo sono giuste o non sono giuste esistono altri strumenti che posso andare a consultare sì la risposta è sì quindi per essere confortati sulla bontà sulla correttezza della terza e la quarta cifra qui entrano veramente in gioco quelle che noi chiamiamo essere le note esplicative della tariffa doganale cosa sono le note esplicative della tariffa doganale che peraltro non hanno valore di legge però sono sicuramente un documento che la dogana userà tantissimo contro di voi e siccome la dogana userà contro di noi ce lo andiamo a guardare prima noi con attenzione queste note esplicative sono regolamenti comunitari quindi dei documenti ufficiali dell'Unione Europea che vengono pubblicati periodicamente con degli aggiornamenti non troppo frequenti in cui vanno a descrivermi che cosa rientra che cosa non rientra in 1.84.11 ad esempio il problema vero è che queste note esplicative le dovete andare a cercare non più qui sul portale dell'agenzia del dogane ma sul portale dell'Unione Europea l'Unione Europea pubblica quindi periodicamente degli aggiornamenti delle note esplicative che sono aggiornamenti che però devono innestarsi su un testo madre che la nota esplicativa per tutte le voci canali esistenti a quattro cifre esistono le relative note esplicative ma il problema vero qual è a questo punto che io posso anche andare sul portale dell'Unione Europea scaricarmi pure gli aggiornamenti ma se non ho il testo madre su cui innestare l'aggiornamento è uno strumento monco uno strumento che non mi soddisfa pienamente e allora allora in teoria dovrei fare un abbonamento una casa editrice di Genova che è esclusivista di questo tipo di documenti in cui dico mi date il testo madre ogni volta mi comunicato gli aggiornamenti io vi dico uno che lo fa di professione come potremmo essere anche noi che definiamo questionari per conto terzi è uno strumento che ha un costo che ovviamente si giustifica nella misura in cui questo cioè io sono un'azienda che classifica ogni tanto dei propri prodotti probabilmente questo abbonamento secondo me non sta in piedi diventa un costo assolutamente inutile allora qui entra in gioco quello che ci suggeriva già la signora Silvia prima le note esplicative della Dogana Svizzera cosa c'entra la Dogana Svizzera? io vi dico nulla la risposta è assolutamente nulla sono svizzeri sono extracomunitari non c'entra nulla con noi ma nel panorama dei paesi extracomunitari la Svizzera è oggettivamente il paese più vicino a noi logisticamente più vicino a noi normativamente parlando per cui fare riferimento alle note esplicative della Dogana Svizzera potrebbe darci qualche spunto interessante molto interessante secondo me partendo dal presupposto che non sono i documenti ufficiali nostri ma sono documenti molto vicini ai nostri e quindi andremo adesso a vederli insieme se la Barbara però stava scrivendo una domanda pongo una domanda particolare se vediamo una chiavetta USB extra c'è con all'interno un programma di un macchinario il programma software ha un valore oltre le migliaia di euro come lo classifichiamo? allora questa è una bella domanda ovviamente si spediscono in extra way quindi c'è anche un problema ad un ganale è chiaro che se io guardo la chiavetta la chiavetta USB c'è la sua voce ad un ganale chiavetta USB supporti andiamo nel capitolo 84 e la troviamo il software a questo punto c'è da capire bene se è un software personalizzato diventa una prestazione di servizio e quindi non va classificato ad un ganalmente se è un software standard alla voce del ganale del software quindi dovrebbe capire esattamente come si interpreta questo software quindi il problema è che quando si va accanto ai software dobbiamo guardarci con molta molta cautela non è una domanda banale quella che ha posto la signora Barbara in questo momento la signora Elena scrive va spedito con la voce del ganale del software perché appena scritto la signora Barbara è personalizzato allora ci sta di mettere con la voce del ganale del software però questo è un tema che dovremmo sicuramente guardare con un po' più di calma perché non vorrei darvi delle rispostacce visto poi i valori che girano dietro i software possono davvero diventare situazioni imbarazzanti se sbagliamo l'interpretazione allora quello che volevo però dirvi ancora è questo note esplicative della dogana Svizzera allora di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una follia perché è giusto che si evidenzi subito la realtà dei fatti vi sto facendo fare assolutamente una follia perché se voi andate sul motore di ricerca e andate a scrivere semplicemente note esplicative dogana Svizzera adesso lo facciamo insieme ho scritto semplicemente note esplicative dogana Svizzera entro e entro nella città dogana Svizzera che ha l'innegabile pregio di avere quattro lingue tedesco, francese italiano e inglese tra cui essendo l'italiano una lingua ufficiale ovviamente magari privilegiamo la lingua italiana anche se qualcuna volta dice mi trovo meglio con l'inglese vabbè ci sta anche quello allora quello che vi trovate di fronte è il portale dell'agenzia del dogana Svizzera ovviamente che non è riconosciuto ufficialmente in Unione Europea perché è un documento ufficiale per la dogana Svizzera però dicevamo è il paese più vicino a noi sia geograficamente che doganalmente parlando per cui l'esperienza sul campo porta a dire che spesso queste note esplicative sono identiche o quantomeno molto molto simili a quelle che poi troviamo nel portale dell'Unione Europea ma allora qui come funziona semplicissimo ho dei numeri romani e dei numeri arabi se cliccassi sui numeri romani mi scaricherebbe le note esplicative della sezione ma se devo andarmi a scaricare le note esplicative della sezione me le vado a scaricare direttamente nel portale delle dogane direi non c'è bisogno di passare attraverso il portale della dogana svizzera a me invece interessa andare a cliccare sui numeri arabi quindi se andassi sul capitolo 84 mi sta scaricando un pdf l'avete visto in tempo reale l'ha già scaricato e questo pdf del capitolo 84 inizia a recitare dandovi le note introduttive al capitolo che sono le stesse che avrei trovato nel portale dell'agenzia del dogane quindi questa parte eviterei di leggerla perché se mi devo andare a cercare le note introduttive al capitolo me le vado a cercare nel portale dell'agenzia del dogane italiana naturalmente ma a un certo punto il panorama cambia per cui inizia a parlare l'84-01 quindi queste sono le vere note esplicative questa nota esplicativa di cosa rientra l'84-01 poi ci sono le note esplicative di ognuno l'84-01 guardate quanti dettagli ci sono l'84-02 le caldaie quindi in realtà per ogni voce doganale a quattro cifre esiste la sua nota esplicativa e siccome abbiamo fatto l'esempio l'84-22 prosegue un attimo con l'84-22 guardate quante paginate comunque di note esplicative stiamo incontrando l'84-18 non posso più vicino scusate l'21 l'21 l'officio ma era l'21 l'22 e quindi sa dirmi che cosa rientra in questo l'84-22 e quindi qui potrei trovare conforto potrei trovare conforto anche su come classificare le parti cosa si rientra in una parte di queste macchine cosa non si rientra in questa voce quindi se avesse a che fare con questi articoli è inutile che io provi a classificarli qui l'adogra me li contesta in due secondi perché è oggettivamente sbagliata il ok quindi diciamo che questo strumento delle note esplicative dell'adogra svizzera è uno strumento che ho usato un po' con le molle un po' con le pinze però è uno strumento che ad esempio quando mi capita di andare in azienda non mi sono portato dietro tutti i tomi delle note esplicative che sono assolutamente poco gestibili perché sono dei documenti assolutamente pesantissimi per me è più facile andare a collegarmi sul portale della Svizzera andare a consultare andare a ragionare magari insieme all'azienda con la quale stiamo discutendo sulla corretta attribuzione della voce canale andare a cercare di ragionare insieme su quella che possa essere la voce canale di riferimento perché mi dà degli spunti sicuramente molto molto interessanti questa nota esplicativa quindi qualcuno che l'ha già suggerita questa stessa certamente è uno strumento che già conosceva qualcun altro forse no quindi il se la Francesca mi sta dicendo le chiedo se puoi ripetere il link mi sono dovuto sentare un attimo ok allora diciamo che per accedere a questo portale del dell'inizio delle dogane Svizzera noi abbiamo semplicemente scritto su google note esplicative dogana Svizzera nulla più se volete lo rifacciamo tutto il percorso insieme comunque è assolutamente semplice quindi andate su normale google note esplicative dogana Svizzera quindi vi ricondivido da questo punto ok ho scritto semplicemente note esplicative dogana Svizzera mi si è aperto la prima ricerca e sono già scritto sul portale dogana Svizzera scegliendo la versione italiana basta cliccare sui numeri arabi qualunque sia il capitolo di riferimento che state ipotizzando da utilizzare per classificare i vostri prodotti e questo ovviamente vi vi dà questa esplosione questo dettaglio che può essere sicuramente molto molto interessante secondo me oggi come oggi a me sono un concesso che sia vero avete classificato i prodotti senza leggere mai note esplicative siete presi un rischio clamoroso userei questa terminologia perché la dogana invece lo legge sempre note esplicative la dogana vi contesta note esplicative la mano normalmente mi dice ma qui c'è scritto eh ma io non ho letto problema tuo se non leggi lo devi sapere lo devi leggere quindi io inviterei tutti a leggere questi strumenti che vi ho fino ad ora elencato quindi regole generali di introduzione e nomenclatura combinata note introduttive alla sezione note introduttive al capitolo note esplicative per ogni voce canale a quattro cifre e siete già dove a metà alla sera è già finita la vostra serata se lo fate di giorno in azienda magari riuscite avere il tempo per leggere tutto però quello che ci tengo ma ci tengo per sottolinearlo è far passare anche un concetto che non è banale perché io mi arrabbio molto anche con alcuni miei clienti che mi chiamano dicendo la merce ferma in dogana dai dammi la voce canale che liberiamo tutto quanto tempo ho? 30 secondi ma come 30 secondi? eh sì perché qui c'è fretta la merce sta ferma va in sosta no la voce canale è frutto di uno studio la voce canale ha bisogno di competenze tecniche mi devi dare la scheda tecnica mi devi dare la fotografia mi devi far capire di cosa stiamo parlando e solo così si può arrivare a una definizione ragionevole della voce canale ma non ci sono bisogno di 30 secondi ci sono bisogno di ore ore quando qualcuno mi dice eh ma perché ti chiedo una voce canale ti fai pagare per definire la voce canale per me sì perché è uno studio la voce canale a volte per definire la voce canale ci possono volere davvero pochi minuti perché magari come si dice la voce canale è nominata in tariffa e lei non può essere altro che lei a volte ci possono volere ore ore di letture ore di competenze tecniche per andare a definire una voce canale rimanendo anche forse in un limbo in un dubbio che potrebbe ancora esserci perché la verità è che purtroppo la voce canale potrebbe essere frutto anche di un'interpretazione è un margine c'è purtroppo questo lo dico un margine a volte c'è a volte non si è sicurissimi di quella che possa essere la voce canale di riferimento sì a volte leggendo lo stesso documento potrei leggersi chiaramente A qualcuno dice no ma è chiaramente una B io vedo A io vedo B ha chi ha ragione bella domanda quindi io vi dico che per l'estate della cronaca nonostante tutti questi strumenti che vi sto raccontando e non finisce qui naturalmente perché ne abbiamo ancora altri di strumenti che la dongana userà contro di noi ma nonostante tutti questi strumenti nonostante tutte le vostre letture serali potrà essersi ancora il dubbio su la definizione di taluna e voce canale sì sì la risposta è tragicamente sì la voce canale potrebbe prestarsi a interpretazione sì assolutamente sì questo è di fatto uno dei problemi che abbiamo no allora è chiaro che voi mi potreste dire ma io dopo questo fantastico webinar non dormirò più neanche la notte è uno degli effetti collaterali del nostro del nostro webinar non era questo l'effetto voluto però all'irà che adesso vi racconterò gli altri strumenti che dovete assolutamente conoscere quello che voglio dirvi è che le sanzioni che possono scatturire da un'errata voce canale lato import soprattutto sono assolutamente pericolosissime io vi dico che l'agenzia dogane italiana nonostante tutte le contestazioni di tutto questo mondo nel senso che tutte le aziende Confindustria in primis ha sempre contestato continuano continuano ad applicare il famigerato articolo 303 del TUD del testo unico delle leggi doganali che non ha nessuna fonte unionale ma è ancora una volta un una normativa italianissima che contestata da tutti perché il codice doganale dell'Unione Europea mi dice che le sanzioni doganali devono essere equi e proporzionate non mi dice quali sono con ogni stato membro deve individuare le sue sanzioni basta che siano equi e proporzionate il la verità è che le nostre sanzioni e almeno quelle italiane visto che non è l'Unione Europea che definisce le sanzioni ma ogni singolo stato membro che lo individua non sono né equi né proporzionate e la voce doganale è uno di quegli errori che va ad impattare sul calcolo dei diritti doganali e siccome impatta sul calcolo dei diritti doganali cosa succede? Che se io per effetto l'errata voce doganale avessi pagato più del dovuto ovviamente mi lasciano stare tutti non c'è sanzione che tenga non devo giustificarmi con nessuno ma se per effetto l'errata voce doganale ho pagato meno del dovuto la sanzione me lo contesta mi sanzione mi chiede differenze mi chiede interessi mi chiede delle sanzioni che secondo l'articolo 303 sono esponenziali non sono né equi né proporzionate questa è la verità quindi diciamo che da questo punto di vista in import dovete arrivare a definirmi le voce doganali a 10 cifre tassativamente a 10 cifre è l'importatore che la definisce ci tengo tantissimo a sottolinearlo non posso dire me l'ha detto al fornitore io al fornitore glielo chiedo lui avrà classificato prodotto per fare il suo export quindi probabilmente un tema voce doganale l'ha già affrontato ma quando siamo in import sono io che sdogano sono io l'importatore sono io che definisco devo definire la voce doganale e quella voce doganale comanda su tutto comanda sui divieti all'import comanda sull'aldazio comanda sull'aliquota iva comanda su tutto quindi chi è che definisce la voce doganale in import l'ufficio acquisti può pure essere ma è da solo è un tecnico riprodotto l'ufficio acquisti o solo uno che fa ordini per conto di un tecnico riprodotto in base ad ogni realtà aziendale può cambiare però allora io vi chiedo proprio provocatoriamente questa domanda è molto provocatoria me ne rendo conto ma allora voi per definire la voce doganale ce l'avete una procedura scritta chi fa che cosa quando faccio qualche cosa quando mi attivo per definire la voce doganale quando faccio l'ordine quando ricevo un'ordine rivendita quando creo un nuovo prodotto quando creo una grafica articolo quando è che mi pongo il tema voce doganali ma io rispondetemi quello che volete l'importante è che non mi rispondiate quando la merce è in dogana è troppo tardi quando c'è la merce in dogana non c'è tempo di ragionare la merce in dogana è ferma va in sosta non c'è una corsa contro il tempo il primo momento ideale è nasce un prodotto nuovo devo creare una grafica articolo e creiamoci anche la voce doganale ma chi deve definire la voce doganale chi definisce la grafica articolo non lo so chi definisce la grafica articolo per come l'ho visto di lavorare spesso e volentieri io fa un copio e incolla diciamo questo è un prodotto simile all'altro c'è già la voce doganale copio e incolla l'è trovata in tre secondi non è questo lo schema vincente dal mio punto di vista dobbiamo andare a capire ogni singolo prodotto di cosa si tratta andare a classificare allora non c'è momento migliore del quando si crea l'anagrafica del nuovo articolo per me questo è il momento X il momento più interessante in assoluto ok quindi poi mi direte voi in realtà come vi siete strutturati come state sopravvivendo perché c'è da punto io ho iniziato a parlare di sopravvivenza e di voce doganale perché in realtà è un tema sicuramente molto molto complicato e ogni azienda si è strutturata a modo a modo proprio no allora dobbiamo ancora raccontarci tante piccole grandi cose sul nostro strumento e le voce doganali però siccome si era programmata una pausa intorno alle 4 e il mio orologio siamo veramente intorno alle 16 io direi se siete d'accordo se non avete controindicazioni forse c'è una domanda non lo so adesso vediamo sì c'era più di una domanda in realtà mi sono perso e chiedo se può il link l'avevo già risposto c'è la sua domanda signora Silvia produco guarnizioni guarda caso il colce maggiormente utilizzato per via delle composizioni a materia prima è 84 849000 ogni po' dei clienti in Algeria chi vuole utilizzare il colce fornito da noi usa invece il 4823 per definire che sono prodotti di carta ma non lo sono quindi ok insiste a utilizzare quest'ultimo perché col colce ha dei problemi con la sua domanda chi ha i maggiori problemi sono coloro che importano o se l'ha confermata anche il nostro spedizionale quindi non è continuato a realizzare il nostro allora sì io sono d'accordo con quello dice la signora Silvia nel senso che è chiaro che se io ho definito le mie guarnizioni oggettivamente non di carta non è che solo perché ho il cliente che si lamenta perché deve chiedere autorizzazione all'import perché deve pagare troppi dazi perché poi questi problemi millantati dal cliente cosa riguardano o una liquida da seria particolarmente elevata per la voce non alta 84-84-90-00 oppure perché ha bisogno di autorizzazione all'import che non ha e c'era solo per l'88-48-23 però io non è che devo seguire le follie dei miei clienti non è che io ho la voce richiesta del cliente perché una volta sei algerino te la metto in un modo perché sei brasiliano te la cambio per se sei australiano ti metto la terza voce canale voce canale è sempre la stessa non guardo in faccia nessuno dove sei sei cliente se sono convinto perché sono veramente convinto che la voce canale è 84-84-84-90-00 quella è per tutti deve essere la stessa voce canale per tutti quindi per me non esiste la voce canale a richiesta allora cosa si fa di fronte a queste richieste che io definisco irricevibili perché tu mi chiedi quello che vuoi decido poi se accontentarti o meno in questa richiesta per me è una richiesta irricevibile però piuttosto ti tolgo la voce canale piuttosto non tradichiaro più la mia voce canale ti lascio il documento blank poi tu a destino fai quello che vuoi vuoi dichiarare che è carta io non sono d'accordo ti prendi tu cliente importatore la responsabilità di dire che sono guarnizione di carta fattaci i tuoi te la vedrai tu con la tua dogana se ti contesterà il non essere carta però io nel mio export continuo a dichiarare la mia voce canale di cui ho stabilito essere quindi 84 84 90 00 sono convintissimo se la voce canale continuo a usare la testa bassa quella non posso stare a ascoltare le follie di ogni singolo cliente perché di follie trattasi abbiamo delle richieste veramente irricevibili spesso e volentieri quindi direi non ne vale veramente la pena in questo caso ok quindi adesso non so se le domande erano veramente finite no se ancora c'è una gloria che mi dice importiamo particolari di metallo che utilizziamo per la produzione di mobili per sognare in import utilizziamo parti di mobili ecco che queste sono quelle domande un po' più sibilline perché particolari di metallo ok sono parti di mobili nella misura in cui sono componenti di metallo sagomati per essere soltanto considerati un componente di un mobile se è vero questo ci può stare l'idea che sia una parte di mobile se non è vero quello è un banale pezzo di ferro allora rimane 73 una voce di riferimento di questo tipo più generica come si collega la variazione a destino alla caisse code con eventuali certificati compagnitori euro 1 non si collega nel senso che se io ho la mia voce canale io ho ragionato secondo un prodotto che ho classificato in un certo modo a destino che cambia la voce canale diventa difficile puoi spiegare questo cambio di voce canale perché evidentemente non ha senso cioè quello che mi può contestare un cliente sono le seconde cifre ma le prime sei cifre della voce canale sono uguali nel mondo quindi noi l'Algeria e chi volete voi sulle prime sei cifre non le possiamo non le possiamo variare se andiamo a variare quelle se è qualcosa che non va proprio concettualmente e le regole di origine vertono sulle prime quattro cifre massimo sei guarda caso per cui direi che non ci concilia il cambio di voce canale non posso che dare questa rispostaccia ok allora io direi siamo abbastanza in linea con le risposte alle domande per cui se nessuna controindicazione ci fermiamo per riprendere sono le 16 e 15 minuto più minuto meno così abbiamo il nostro gran finale di pomeriggio ok allora buon caffè grazie a tutti io scollego audio e video ma rimango qua ok grazie dottor Del Nevo a tra poco grazie a tutti 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 Sì, perché abbiamo 95. Quindi qualcuno c'è. Quindi qualcuno c'è. Perfetto. Va bene, allora Silvia Tato scrive anche il chat presente, quindi almeno una ce l'abbiamo di partecipante. Perfetto. Allora, intanto direi riprendiamo la nostra caccarata, qualcuno potrebbe essere andato letteralmente lungo col caffè, però piano piano ci raggiungerà, noi abbiamo ancora questa nostra oretta abbondante da trascorrere insieme e dobbiamo ancora vedere gli ultimi strumenti che in azienda si devono conoscere per definire voci doganali, perché non finisce qui l'elenco degli strumenti che la dogana userà contro di voi, no? Perché noi sappiamo di dire questo presupposto. La dogana potrebbe contestarmi la voce doganale? Sì. Quali strumenti userà la dogana per contestarmela? E quelli che vi ho raccontato, poi li farò toccare con mano tra poco, sono proprio gli strumenti che la dogana userà contro di voi. Allora, se è vero che questi sono gli strumenti che la dogana usa contro di voi, li conosciamo prima noi e li usiamo noi per classificare. E noi li classifichiamo all'interno di una procedura. Io sono veramente convinto che ormai come aziende siete in tanti certificati ISO, avete tante certificazioni, in pochi forse avete la certificazione I.O., quella richiesta dalla dogana, però al di là che ce l'abbiate o non ce l'abbiate, la certificazione è questo un effetto collaterale, mi piace l'idea che abbiate procedure anche per definire la voce doganale, proprio scritto dello su bianco, chi fa che cosa, quando lo faccio, collaterale, strumenti uso, ma questo mi serve anche, al di là del quotidiano in cui vi dovete classificare i prodotti, mi serve anche per andare a comprendere meglio, cioè nel momento in cui ci fosse anche, che so, un turnover dell'azienda, se lo lasciamo scritti gli strumenti, chi subentra sa da che parte iniziare, anche se abbiamo perso del know-how, no, con l'avvicendamento del personale, chi subentra, almeno ha un riferimento scritto di dove riniziare a classificare un prodotto, perché no, cioè l'attribuzione della voce doganale deve essere un sapere dell'azienda, non un sapere del singolo, per cui la procedura, io credo, dico provocatoriamente, ormai avete le procedure fra qualunque cosa, anche per andare al bagno vi scrivo la procedura che dovete adottare, perché no, perché non c'è una procedura per definire le voce doganali, e questo lo dico perché girando aziende, prima del Covid facevo i miei 5.000 km mese tutti i mesi, adesso grazie al Covid non mi alzo più dalla sedia, ma in ogni azienda è andata dalla piccola, alla media, alla grandissima, una vera procedura scritta sull'attribuzione della voce doganale, le ho viste poche, le poche aziende che hanno la procedura scritta sono quelle aziende che sono affacciate alla certificazione, o meglio autorizzazione I.O., come dovremmo dirsi oggi, quell'autorizzazione che richiedete alla dogana in cui la dogana valuta tutte le vostre procedure, tutti i vostri processi, partendo dal mondo doganale e non solo. Allora lì sì che nell'ottenimento di una I.O. c'è anche la domandina nel questionario come definita una voce doganale, la risposta non è sì la definisco, come la definisce la voce doganale? Allora lì, se voglio approcciare, secondo me, in maniera corretta a una logica di essere azienda A.E.O., azienda certificata dalla dogana come azienda d'alta affidabilità doganale, forse è una procedura alla volta che la scriviamo, ma non c'è bisogno di diventare A.E.O. per fare una procedura per definire le voce doganali, questo è che volevo dirvi, anche se siete un'azienda piccola, media, non necessariamente grandissima, perché non definirsi questi ruoli? Perché non stabilire quali uffici entrano, quali uffici vengono coinvolti ogni volta che nasce un'agenza nella voce doganale? Anticipare il problema delle voce doganali, non subire il gioco delle voce doganali, perché io vedo che le aziende italiane lo subiscono il gioco delle voce doganali, non siete mai proattivi, siete aziende che chiedono, ricevono e si fidano, il copio e incolla, il sogno di ogni amministrativo, che ci sia la fattura del fornitore con la voce doganali sopra, lo dico scherzando, ma secondo me è il sogno vero di ogni amministrativo, perché diceva, c'è già scritta, che bello, non ci devo neanche pensare, quando devo fare il modello Intrastat è già fatto, c'è già la voce doganali, che problemi ho? Nessuno. Anzi, vi dico che secondo me il modello Intrastat, negli acquisti intraconitari in particolare, a me sono concesso che siete tenuti a fare il modello Intra, perché con le soglie del 2022 alcune aziende si definiscono esonerate dalla compilazione degli intracquisti, ma se siete aziende di un certo livello l'Intra lo dovete fare, secondo me l'intracquisto è il modo più subdolo per far entrare voce doganali sbagliate nel sistema azienda, perché si tende veramente a copiare la voce doganali del fornitore, la copio, perché finì Intra è un dato statistico, è un dato apparentemente innocuo, entra nel sistema azienda quando qualcuno cerca disperatamente una voce doganale, l'amministrativo dice ce l'ho io, è già qua nel modello Intrastat, copia questa e va in export. Finché lo sbaglio in un contesto intraunionale, è un dato meramente statistico, quando inizio a sbagliare la voce doganali in un mondo di import o anche export, assume una valenza diversa dal dato meramente statistico. Quindi quello che voglio dirvi, a volte il copiare banalmente la voce doganali dalle fatture ai fornitori potrebbe diventare veramente un cavallo di troia attraverso il quale entra una voce doganale non filtrata in azienda, una volta che dentro il sistema azienda non c'è più nessuno che la filtra in un secondo momento e poi il disastro è più o meno annunciato, è quasi sicuro che si creerà un errore nelle nostre dichiarazioni doganali. Comunque queste sono le mie logiche che non so se poi tutti ovviamente condivideranno. Ma allora andiamo avanti, vi ho dato anche modo a chi fosse arrivato un po' più lungo col caffè, di raggiungerci. Ecco una domanda che vi viene fatta classicissima in questi nostri webinar. Ma allora la voce doganali io sono obbligato a metterla in fattura? La domanda secca, devo metterla in fattura? La risposta è no, non devi nulla a nessuno. Quindi questo lo dico, quindi la voce doganale non è obbligatoria a metterla in fattura, non c'è scritto nessuna parte, in seguito le fatture elettroniche, se fate fatture elettroniche nessuno vi chiede la voce doganale. Ma in dogana la voce doganale serve dove? Serve in bolle doganale, perché la bolla doganale si essa al vecchio o al nuovo format e quindi ci rivedremo presto, se non sbaglio il 3 luglio, per chi vorrà essere ancora presente in questi nostri corsi, parleremo proprio di bolle doganali. Il 3 luglio sapete che siete coinvolti in una rivoluzione doganale, non un cambiamento, una rivoluzione doganale che vi ha sconvolto le bolle doganali di import sul finire, sul giugno, a partire dal giugno dell'anno scorso, sul finire l'anno scorso tutte le bolle doganali import sull'interno telematiche e a settembre partono tutte le nuove bolle doganali export in telematico. Quindi sta per cambiarvi il mondo sotto i piedi pesantissimamente. Quindi il 3 luglio parleremo anche di queste cose, sicuramente, anche se sull'import abbiamo certezze, sull'export qualche incertezza evidentemente in più ce l'avremo. Però vabbè, al di là del format della bolle doganale, che sia il vecchio che sia il nuovo format della bolle doganale, è un elemento imprescindibile di ogni dichiarazione doganale. Quindi è chiaro che quando siete gli intestatari della bolle doganale che si è sedi un po' di export siete responsabili di quel dato. Ok, allora, a dirà che chi vorrà venire la prossima volta si ripresenterà e quindi avremo altre brutte notizie ovviamente inevitabilmente da dare ai volontari che si presenteranno. Noi ritorniamo nel nostro portale dell'agenzia delle dogane da cui è nata tutta la nostra chiacchierata. E noi qua ci sappiamo arrivare, abbiamo già visto che abbiamo degli strumenti, nomenclature, taric, indice e partiamo dal nostro indice. Abbiamo capito, dobbiamo leggere il nostro introduttivo alla sezione, il nostro introduttivo al capitolo, ci avventuriamo questa volta con qualsiasi prodotto. Io amo il mondo delle valvole perché ho seguito tante tante aziende che fanno il mondo delle valvole e tra l'altro in realtà me l'ho segnato anche le vostre funzionali, potrei fare anche esempi. Più volte da me sono in concesso che siano tutte le stesse aziende quindi vedevo di 84-18 della volta scorsa. Ok, allora, una volta che io mi sono letto tutte quelle note introduttive, tutte quelle introduzioni, sezioni, capitoli, note esplicative, no? Sono entrato qua, mi sto autoconvincendo che i frigoriferi siano da classificare qua dentro, come devo leggere? Questa è la parte più banale forse del nostro ragionamento, però è sempre bene ricordarla nel contesto di un webinar di questo tipo. Nel momento in cui ho scelto e ho deciso che 84-18 è rappresentativa del mio prodotto, allora devo andare a definire una versione canale almeno 8 cifre, no? Come dicevamo, o addirittura 10 se dovessi fare import. Allora, la chiave di lettura è mi riconosco nei frigoriferi, congelatori e via dicendo che trovo scritti qua, sì, diamo per un scontato che io mi riconosca in questa prima descrizione del sottocapitolo. Allora, qui devo iniziare a leggere solo ed esclusivamente le voci canali a un trattino. Sono combinazioni frigoriferi? Sto parlando di combinazioni frigorifere, oppure sono frigoriferi per uso domestico? Oppure sono mobili congelatori, conservatori tipo cofano? Oppure sono mobili congelatori di tipo armadio? Oppure altri mobili attrezzati per la produzione del freddo? Oppure parti di questi? Di cosa sto cercando di classificare? Quindi io scelgo la descrizione a un trattino che in questo momento mi sembra rappresentare meglio il mio prodotto, quindi scegliamo a caso 84 mobili congelatori conservatori tipo cofano di capacità inferiore uguale a 800 litri, così io qua mi ci riconosco. Bene, nel momento in cui ho dato per corretta questa posizione anale a 6 cifre, devo arrivare a leggere le descrizioni a due trattini, ma solo le descrizioni a due trattini sotto il primo. Quindi nel contesto dei mobili congelatori conservatori tipo cofano di capacità inferiore uguale a 800 litri sono di capacità inferiore a 400 litri oppure di capacità superiore a 400 litri ma inferiore a 800? Oppure non c'è nessun oppure perché non ci sono altre descrizioni a due trattini perché io leggo solo i due trattini sotto il mio. Allora nel contesto di dico a caso capacità superiore a 400 litri ma inferiore a 800 io ho già definito la mia voce anale a otto cifre la mia voce anale a otto cifre che mi è già utile sufficiente per fare export ma se facessi import devo arrivare alla nonna la cifra ma devo andare a leggere le descrizioni a tre trattini ma solo i tre trattini sotto i due di mio interesse sono destinati ai mobili civili questa è la mia voce anale altri sono tutti quei mobili congelatori di capacità superiore a 400 o inferiore a 800 non destinati ai mobili civili allora nell'ambito di questi altri devo poi decidere sono precariati con idroflurocarburi o altri a seconda di quello che vado scegliendo definirò la voce anale a 10 cifre molti mi rispondono sempre malamente sulla voce anale a 10 cifre ma ci aggiungo 00 e sono a posto così non è mica sempre detto qua non c'è di aggiungere 00 qui il discriminante è 91 99 qui ci può essere un 10 non è sempre 00 in alcune voce anale è vero coincide sempre con lo 00 perché 84 22 sono tutti 00 i finali allora lì sì che è sempre uno 00 non è che c'è molto da discutere tra le 8 le 10 cifre ma in molte altre voce anali il dettaglio della nonna decima cifra è un dettaglio è un dettaglio che può assumere sicuramente dei valori diversi dallo 00 quindi non banalizzatemi la nonna decima cifra sullo 00 e qui posso raccontarvi ancora di storie incredibili ma vere vi assicuro vere di aziende che sbagliando la nonna decima cifra hanno preso per vali milionari ma non 100 euro 1000 euro 100.000 euro milioni di euro se questo adesso esagere il solito mitomane che si vuole rovinare il martedì sera il la verità è proprio questa invece che dietro certe voce anali a nonna decima cifre può scattare un dazio antidumping in sostituzione di un ordinario dazio cosa succede se c'è un dazio antidumping io in questo momento ho a che fare con un'azienda non troppo lontana da noi delle parti meglio di pannelli proprio per il fotovoltaico e questa è un'azienda che importa non una milioni di euro di queste parti di pannelli in molti mesi una azienda che ha sempre classificato questa parte di pannelli con una determinata voce anale mai ha avuto un problema in dogana ma anni non giorni anni che è così andando a vedere la voce anale la dogana in un'ennesima importazione ha visto che la voce anale aveva un cambiamento di aliquota daziaria anche molto sensibile un po' di percentuale di un certo componente presente nel pannello e quindi la dogana che è nella sua facoltà a farlo ha chiesto che un campione di questa parte di pannello venisse mandato a un laboratorio chimico del dogane per verificare questa percentuale maggiore o superiore al 75% neanche quale fosse il componente incriminato e clamorosamente i risultati dell'analisi della dogana hanno evidenziato che la voce anale a loro dire era sbagliata tipo la voce anale era un certo tipo con il contenente intro 75% e la dogana è stato 76% quindi cambio di voce anale ma non è un banale cambio di voce anale perché per effetto di questo risultato delle analisi del laboratorio chimico la voce anale cambiando anche solo nella nonna della decima cifra passava da un Dazio ordinario a un Dazio antidumping quindi l'aliquota non vi dico i numeri a caso ma giusto per darvi l'idea perché più o meno in quest'ordine di grandezza passava dal 5% Dazio ordinario a un 40% Dazio antidumping il dogana ha detto è sbagliata quindi se la voce anale è sbagliata mi deve dare le differenze mi deve dare gli interessi mi deve dare le sanzioni e mi sembra di capire a me dogana che questa non sia la prima import che fai da quel fornitore di quel prodotto non è che anche le precedenti import avere lo stesso problema io quasi quasi dogana ti mando in revisione d'accertamento tutte le importe precedenti e faccio scattare la presunzione che siano dovute anche tutte le differenze il è chiaro che l'azienda qui è bloccatissima l'azienda qui mi sta dicendo aiuto se parte una revisione massiva triennale noi saltiamo se mi chiedi le differenze del 35% su ogni import fatta nel triennio precedente per ogni singola bolla doganale mi chiedi le differenze di DAS le differenze di IVA le sanzioni gli interessi era una cifra che non avremmo mai a disposizione qui andiamo tutti a casa sì è un'azienda che sta rischiando di saltare come mi è successo anni fa con un'azienda che se la posso citare perché non esiste più un'azienda dresciana che importava biciclette per bambini dove cambiando la nonna della cifra anche in quel caso la dogana contestando la nonna della cifra ha fatto un accertamento retroattivo triennale chiedendo differenze di interesse e sanzioni da un DAS ordinario a un DAS antidumping e l'azienda di fronte a quel verbale da 2 milioni e 200 mila euro ha detto ma io non c'è gli occhi soldi o ritrovi o che fai sai che faccio che fallisco questo è uno di quei casi in cui potrei citarvi che l'azienda non c'è più ed è tutto dovuto a un'errata voce doganale cui corrispondeva a un aliquota daziaria che spostava dal DAS ordinario dal sentinanti e la dogana insiste 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 a applicare nell'impor l'articolo 303 del TUD testo unico delle leggi doganali dove una evasione daziaria che venga perpetrata in import che comporti un'evasione di diritti doganali superiore a 4 mila euro 4 mila euro attenzione sono dazio più IVA quel dazio e quell'IVA non pagati che la dogana ritiene dovuti è la sanzione minima secondo l'articolo 303 e mi dai quei 4 mila euro più che non mi hai pagato mi dai gli interessi perché te li posso contestare senza di anni mi dai la sanzione minima di 30 mila euro per ogni bolla doganale è fatto quante volte 50 in un anno 30 mila per 50 è già un milione e mezzo solo di sanzione più le differenze e gli interessi vedete che è un attimo arrivare a cubare valori importanti quindi avete capito la morale del nostro corso non scegliete mai voi personalmente voi scegliete da import perché è una responsabilità mostruosa una responsabilità che insomma può far saltare un'azienda in export queste sanzioni non ci sono posso confortare non ci mai ho la fortuna di guardare il lato export vero non ci sono sanzioni doganali così pressanti sono errate a voce doganale nel lato export non sono così elevate quindi posso sbagliare origini posso sbagliare embarghi posso sbagliare dual use posso sbagliare un sacco di altre cose far disastri epocali da un altro punto di vista ma non ho sanzioni così elevate dal punto di vista economico quindi comunque è chiaro che la voce doganale è da studiare questo non c'è dubbio io potrei citarvi i 27 anni che faccio questo lavoro un fiume fiume in piena di voce doganali contestate una delle battaglie le posso definire delle guerre che si conducono più frequentemente in dogana è proprio sulle voce doganali sulla contestazione della corretta voce doganale soprattutto lato import perché lato import per la dogana si fa cassa ecco una voce doganale sbagliata meno lato export però è chiaro che dovete fare molta attenzione qui la signora Mariana adesso che non mi dorme più la sera mi dice se mi accorgo che in import è autorizzata una voce doganale errata posso porre rimedio e chiedere revisione assolutamente sì ecco questa è un'altra bella domanda ed è giusto ricordarla a tutti è chiaro che quando fate import ma anche quando fate export vedete il mandato conferite istruzione allo spedizioniere dite di eseguire il compito di fare per vostro conto la bolla doganale lui vi chiede conferme di voci doganali vi chiede conferme di valori vi chiede conferme di origine vi chiede conferme di tutto ma se nonostante tutto la voce doganale venisse errata e voi riguardando poi a posteriore che sono nel mondo import scaricandovi dal cassetto doganale le nuove bolle doganali vi accorgete che ha dichiarato una voce doganale diversa rispetto a quella che voi stessi ritenete corretta soprattutto nel caso in cui questa voce doganale andasse ad impattare sul corretto calco di rito doganali la possiamo correggere sì se la correggiamo spontaneamente paghiamo sanzioni no paghiamo le differenze dei diritti sì gli interessi sì ma le sanzioni no e quindi vale la pena di correggere beh in import assolutamente sì in import se l'errata boce doganale impatta su calco di diritti doganali in particolare nell'ipotesi in cui io abbia pagato meno del dovuto correggetela sempre chiedete revisioni di accertamento delle bolle doganali certo è diverso se per effetto dell'errata boce doganale ho pagato più del dovuto posso chiedere la revisione certo che la puoi chiedere in quel caso tenete conto che la dogana l'eventuale maggior dazio pagato per effetto dell'errata classificazione doganale lo restituisce nel momento in cui oggettivamente si dimostra che la voce doganale dichiarata è errata la maggioriva versata non viene restituita invece vi dicono vabbè tra registri tra porti di detrazione e siamo posti così in export se la Barbara chiede ma invece in export se nonostante sulla nostra fattura ci sia la voce doganale corretta la spedizione doganale la scrive errata si può correggere sì quindi possiamo chiedere una revisione della bolle doganale certamente sì è chiaro che mi sto esponendo meno aziendalmente perché non ho quelle sanzioni devastanti però oggettivamente c'è errore e orrore l'errore mi sbagli la settima l'ottava cifra della voce doganale probabilmente io chiuderei uno due occhi e andiamo alla prossima bolle doganale ma se mi sbagli di brutto la voce doganale nel senso che mi classifichi un prodotto in maniera completamente diversa anche nelle prime cifre faccio fatica a non chiedere una revisione di una bolla doganale è vero non ci sono quelle sanzioni a 30.000 euro però le conseguenze doganalmente massimo della sanzione che può essere applicata sono 103 euro per ogni bolla doganale quindi nulla di particolarmente sconvolgente però risulta che ho esplorato un prodotto diverso potrebbe essere finito in un prodotto imbargato quando imbargato non è potrebbe essere stato un sistema per aggirare gli divieti all'export mi cambiano le regole di origine mi piace poco tenere in azienda una voce doganale con un dato un voce doganale oggettivamente sballato no? ok? quindi diciamo che a questo punto se vi è sufficientemente chiaro no? che questa logica del menu ad albero che contraddistingue le nostre voce doganali sotto capitolo poi un trattino scelto il trattino solo i due trattini sotto il primo scelto il due il tre il quattro a volte si va anche cinque sei trattini sono delle voce doganali particolarmente complesse se vi è chiaro questo a questo punto possiamo andare a vedere gli ultimi strumenti che aziendalmente si devono conoscere per definire una voce doganale strumenti che in alcuni casi sono più noti altri forse meno però c'è ancora una domanda se volessi fare un controllo sulle voce doganali in import quanti anni conviene tornare indietro? assolutamente cinque io direi che voi avete un rischio latente tutti voi essendo una questione IVA di almeno cinque anni forse cinque più uno perché poi la realtà di fatto è quella cinque più uno sono ovviamente insomma l'arco temporale in cui andrei a vedere anche se in realtà avete una stupidata se sono cinque più uno è il rischio fiscale però la realtà è che per andare poi a poter correggere una bolla doganale questa è una delle follie del nostro ordinamento voi più indietro di tre anni comunque non ci potete andare quindi in realtà anche se mi rendessi conto di un errore di una bolla doganale di quattro cinque anni fa non è correggibile quindi in realtà limiterei la verifica che sta forse pensando di mettere in atto la signora Marianna a tre anni perché sono gli unici corregibili poi con una revisione spontanea da parte dell'azienda quindi rettifico non andrei oltre tre anni anche se le sanzioni potete prendere per i cinque più uno questo è il dato di fatto ok allora al di là del fatto che poi abbiamo fatto anche delle slide che non avete mai visto ma che forse a questo punto non vedrete neanche mai io ve le mostro solo un secondo giusto per farvi vedere che le abbiamo quindi qui abbiamo poi messo alcuni concetti che vi ritroverete gli otto le dieci cifre per i prodotti agricoli di cui non abbiamo parlato si può arrivare anche a 12 caratteri il sito della Dogana intraweb il regolamento vedete questa è una slide vecchia anche nel 2019 è uscito il 31 ottobre perché esce sempre a fine ottobre le regole generali per l'interazione di l'amencatura combinata questi principi che ci stavamo raccontando li ritrovate tutti elencati qua le abbreviazioni che trovate nel sito cioè nel sito nel gazzetto ufficiale dell'Unione Europea le stelline codice nuovo il quadratino la voce canale cera è rimasta ma un contenuto diverso e quindi rappresenta prodotti diversi quindi elenco l'interazione supplementare sapete che anche a livello intra ma anche a livello di bolla doganale ogni voce canale può richiedere unità di misura diversa dal peso perché si ritiene essere unità di misura più significativa quindi in alcuni casi il numero dei pezzi in alcuni casi il numero delle paie in alcuni casi il metri quadri in alcuni casi i metri cubi in alcuni casi i metri lineari quindi prodotto che trai unità supplementare che eventualmente possa essere richiesta questa è la struttura della tariffa doganale che abbiamo già visto prima nel portale dell'Agenzia delle Dogane nelle sue belle sezioni la nota introduttiva alla sezione che abbiamo già visto la nota introduttiva al capitolo che abbiamo già visto la logica del menu ad albero di ogni voce canale che abbiamo in qualche modo già visto le note esplicative che vi ho fatto vedere sotto forma di Sidor e Dona Svizzera sono quelle dell'Unione Europea ci sono degli aggiornamenti come dicevo però queste sono gazzette ufficiali che vengono pubblicate con degli aggiornamenti ma se non avete il testo madre fate poca strada con queste note esplicative e quindi vedete una spiegazione note esplicative non hanno forza vincolante sono un ausilio è un ausilio qualcosa di supporto non hanno un parere legalmente vincolante ma io vi assicuro che le dogane le useranno tanto contro di voi quindi meritano di essere sicuramente lette con attenzione se una parola vi sta chiedendo proposito delle modifiche è mai capitato che venisse eliminato del tutto un coesio canale assolutamente sì spesso e volentieri anche se ogni anno qualche boesio canale viene soppressa e sostituita ovviamente quasi sempre da una voce canale più dettagliata tipo potrebbe essere in quell'esempio che abbiamo fatto che ci fosse la voce canale pesche tutte le pesche andavano lì dentro adesso c'è a seconda del tipo di pesca pesche noci pesche tabacchiere sono due voce canali distinte quindi non è che non esiste più una pesca è semplicemente più dettagliata però la voce canale unica della pesca anche a volerla usare non si può più usare perché è stata cancellata quindi questo succede quantomeno può succedere tutti tutti gli anni ve lo confermo ora queste sono le regole generali dell'interpretazione dell'avventatura combinata che trovate anche davanti alle note esplicative qui sono alcuni esempi adesso poi queste le vediamo e qui arriviamo a uno degli ultimi strumenti che inevitabilmente dobbiamo andare ad esplorare perché qualcuno aveva già nominato in apertura quindi non è uno strumento sconosciuto a tutti di cosa stiamo parlando dell'ITV cos'è l'ITV? informazione tariffaria vincolante cosa vuol dire informazione tariffaria vincolante? vuol dire che è un parere una sorta di interpello se vogliamo tradurlo in altri termini una sorta di interpello con cui noi chiediamo all'agenzia delle dogane in questo caso la conferma della voce doganale che stiamo in qualche modo pensando l'ITV quindi è un parere ufficiale che la cui iniziativa deve partire dall'azienda stessa in cui l'azienda dopo affannose letture dopo uno studio articolato si può trovare oggettivamente in difficoltà io in questo momento stiamo valutando di chiedere per conto di un'azienda un'informazione tariffaria vincolante su una preparazione alimentare a base di latte perché effettivamente leggendo rileggendo studiando ristudiando le voce doganali non è chiaro se sia una bevanda a base di latte una preparazione alimentare a base di latte e tra l'altro l'azienda neanche fa input neanche fa export è un'azienda in cui la voce doganale è importante per determinare se il prodotto gode di una liquota IVA agevolata piuttosto che no perché anche per la liquota IVA comanda la voce doganale quando voi chiedete a qualcuno mi dici la liquota IVA del mio prodotto lui mi dice qual è la voce doganale e in base alla voce doganale si stabilisce se il prodotto ha diritto a una liquota IVA ordinaria piuttosto che particolare no allora l'ITV è proprio un interpello se qualcuno di voi come immagino sia ha un'estrazione amministrativa sa che esiste la possibilità di fare degli interpelli all'agenzia delle entrate cosa sono gli interpelli dei pareri delle richieste in cui voi chiedete all'agenzia delle entrate questa è la situazione in cui mi trovo descrivete al meglio della situazione e nell'interpello che fate all'agenzia delle entrate vi dite dettate quella che ritenete voi sia la soluzione di riferimento vi dite io la risolverei in questi modo cara nel caso agenzia delle entrate tu come la vedi mi confermi che il mio ragionamento è corretto sì o no è l'ITV la stessa cosa con la differenza che il dialogo ce l'abbiamo con l'agenzia delle dungane in cui noi chiediamo all'agenzia delle dungane ma io che ho questo prodotto questa è la scheda tecnica questa è la foto questo è tutto quello che io so di questo prodotto io ho studiato per carità mi sono letto tutte note introduttive alla sezione i capitoli note esplicative mi sono letto tutto lo scibile possibile immaginabile io aziendalmente sarei giunto alla convinzione che il prodotto deve essere consigliato in questo modo perché voi nell'ITV dovete sbilanciarvi dovete indicare quella che ritenete voi possa essere la versione di riferimento l'agenzia riceve l'istanza e qui dobbiamo dire con calma risponde dandovi il suo parere un parere che però ha una forza dirompente perché è un parere vincolante per chi? vincolante per il richiedente una volta che voi avete chiesto un ITV una volta che avete chiesto l'agenzia di esprimersi l'agenzia si esprime davvero è chiaro che il finale dell'ITV della mia istanza può essere che la dogana mi dica sì la voce canale che hai pensato è esattamente quella che devi usare e vai ho portato a casa un parere vincolante per il richiedente ma soprattutto vincolante per tutte le dogani dell'Unione Europea quindi nessun doganiere dell'Unione Europea potrà più mettere in discussione la bontà di quella voce canale del mio prodotto quindi bingo oserei dire no? grande gioia perché per tre anni nessuno mi romperà le scato su quel prodotto quindi è vincolante per me che l'ho richiesta non posso cambiare la voce canale ma è vincolante per tutti i doganieri dell'Unione Europea ma ovviamente c'è un finale un po' meno simpatico in cui il parere della dogana può discordarsi dalla mia opinione potrebbero dirmi no quella voce canale che tu hai indicato nella tua richiesta di TV non va bene per cui devi usare questa che ti dico io quindi la dogana o mi conferma la montata la mia voce canale e allora vado avanti testa bassa con quella voce canale che avevo già pensato io o nel bocciarmi la voce canale che ho pensato mi attribuisce quella che dovrò utilizzare che mi piaccia o non mi piaccia sa da usare però quindi questo è uno strumento che mi permette di uscire con delle certezze in un mondo di grandissime incertezze qual è quello di attribuzione di voce canale perché comunque non lo so tutto quello che vi sto raccontando la attribuzione di voce canale è frutto di un'interpretazione a tratti e quindi siccome dopo questo nostro fantastico webinar avete paura veramente anche della vostra ombra avete più paura a classificare il prodotto non avete più certezze della vostra vita e dite ma io posso uscire con delle certezze da una classificazione canale l'unico strumento che vi permette di avere certezze è un ITV la richiesta ufficiale di un parere all'agenzia delle dogane voi potete anche chiamare il miglior consulente del mondo chi volete voi non necessariamente del neo ma chi volete voi chiunque vi darà un parere un parere autorevole per carità assolutamente un parere studiato sicuramente però un parere un parere sempre opinabile quindi o l'emozionale vi trovate da soli o vi appoggiate a consulenti esterni ma rimanete in un limbo rimanete in un parere che può essere oggetto comunque di discussione con la dogana se invece voi non volete discussioni volete certezze della vostra vita l'unico sottolineo unicissimo strumento che potete utilizzare è l'ITV ma come si fa un ITV è un'istanza ufficiale un'istanza ufficiale che si fa attraverso il cassetto doganale cosa è il cassetto doganale è quello strumento che ci racconteremo meglio la prossima volta per chi vorrà ancora presentarsi in cui siete già entrati tutti penso o questo mi auguro in cui tutti dovete entrare comunque che ci state entrati oggi non ci siete entrati ci dovete entrare tutti nel cassetto doganale perché il futuro del dialogo con la dogana è tutto dentro il cassetto doganale in cui oggi nel cassetto doganale scaricate le bolle doganale di import a settembre scaricherete le bolle doganale di export ma nello stesso cassetto doganale voi potete fare domanda di ITV vi ricordo così velocemente che nel cassetto doganale si accede con lo speed della gara rappresentante lui è il gestore del cassetto doganale lui entra e sarà in altre faccende affaccendato non avrà voglia di star lì a gestire le bolle doganale di import export o ITV che siano e quindi poi può delegare chi vuole un responsabile amministrativo o chiunque altro esso sia chiunque sarà il delegato anche il soggetto esterno a quel punto potrà interagire nel cassetto doganale potrà anche per vostro conto eventualmente presentare un'istanza di informazione tariffaria vincolante sì quindi tutto si gestisce dentro al cassetto doganale la risposta è assolutamente sì quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un ITV beh il vantaggio innegabile è che la dogana risponde gratuitamente quindi non è costa meno di un consulente sì consulente ovviamente si farà pagare per dare quel parere sulla voce canale la dogana no quindi perché no perché no ve lo dico io perché ovviamente io espongo l'azienda sì una delle paure che hanno tutte le aziende dicono ma se io sveglio canche dorme in fondo nessuno mi ha ancora parlato di una errata voce canale non è che facendo domanda di tv io sveglio canche dorme la dogana adesso non mi dice nulla questo è il percorso logico più classico che tutte le aziende hanno la paura di svegliare una dogana che ancora non si accorta delle mie voci canali non c'è nessun automatismo però è anche vero che se faccio domande avrò delle risposte qualcuno si sta interessando la mia azienda cosa che prima non aveva fatto per cui a tratti io arrivo a parlare della necessità di avere coraggio a fare una domanda di tv perché parlo di coraggio è perché effettivamente potrebbe scatenarsi qualcosa di non perfettamente gestibile da parte della mia azienda ok allora diciamo che di fatto il dal nostro punto di vista l'etv è uno strumento sì gratuito uno strumento che ovviamente scoperca un po' un interesse sulla nostra azienda è vincolante per il titolare dell'azienda stessa quindi per l'azienda una volta che chiede parere bello brutto che sia qualunque sia il finale non lo posso disattendere è vincolante per tutte le dogani del paese dell'Unione Europea questa è la cosa bella che nessun doganieri di nessuna dogana dell'Unione Europea potrà più mettere in discussione la bontà di quella voce doganale ok e l'aspetto fortissimamente negativo è dato dal fatto che sono i tempi cioè i tempi di rilascio i tempi di risposta dell'agenzia delle dogane sono drammatici oserei definire perché la dogana risponde in un tempo variabile da 0 a 150 giorni perché sono 120 più 30 perché la dogana poi spesso mi dice mi fa la domanda mi manca un qualcosa ti chiedo chiarimenti da quando mi dai chiarimenti inizia a far decorrere 120 e spesso sono 150 i giorni che se li guardiamo bene non sono giorni ma sono mesi quindi un'azienda che fa sta ferma 4 mesi 5 mesi in attesa di una voce doganale ma assolutamente no per cui è chiaro che l'azienda anche quando ha un dubbio con la voce doganale può anche fare domanda di tv ma in parallelo continua ad operare ed opera con quelle che sono le proprie convinzioni opera usando quelle che sono le voce doganali che ritiene in quel momento corrette aspettando tra virgolette la sentenza aspettando tra virgolette un parere finale della dogana che può confortarci o meno su quella che è la corretta voce doganale che abbiamo già usato è chiaro che lo strumento di tv nasce come strumento preventivo il tv nasce quando sto pensando a un prodotto allora lì forse è anche tempo di fare domanda di tv non ho ancora fatto neanche un exmo neanche un impo è uno strumento preventivo in poche aziende lo usano come strumento preventivo in genere mi viene in mente il strumento di tv quando inizia ad avere un dubbio grosso su operazioni già fatte beh si può usare anche in quest'ottica però sarebbe decisamente più opportuno usarlo in un'ottica futurista sto pensando di comprare sto pensando di esportare chiedo di tv mi faccio dare la voce doganale e poi opero correttamente così fanno i tedeschi tutte le aziende filo tedesche hanno in genere un ufficio doganale centrale che definisce la voce doganale per il gruppo e i tedeschi prima cosa che fanno è devo pensare la voce doganale chiedo di tv la dogana mi faccio confortare la dogana mi faccio dire la dogana quella che è la voce doganale ho blindato la voce doganale impernio tutto il mio business su quella voce doganale in Italia no in Italia sta sul mercato da 50 anni mi ha fatto per sbaglio questo webinar vi racconterò tutti i pregi di un'itv e voi mi direte non la farò mai perché quando vado dal titolare e dico devo fare una domanda di tv lui dice ma chi devi fare la domanda è l'agenziale dogane e mi si spaventa il titolare dice ma no ma dogane no ma chiedelo al consulente piuttosto ma non è la stessa cosa ve lo dico io contro il mio interesse se lo chiedete a me e vi do l'opinione autorevole che sia è un'opinione se lo chiedete alla dogana che è un parere vincolante nessun doganiere per tre anni potrà disconoscere questo parere e dopo i tre anni che succede non ha più la forza vincolante vero ma se il sistema di classificazione del prodotto non è cambiato non c'è motivo di dubitare della bontà di quella voce doganale quindi va ben oltre in teoria tre anni ma in realtà se volessi posso anche chiedere il rinnovo di tv a scadenza che da dogana se con l'itv può valere per altri tre anni con effetto vincolante si può fare sicuramente si può fare tutto muovendosi dentro il cassetto doganale quel portale dell'agenzia dogana in cui siete entrati per restarci per sempre qui lo sottolineo dovete entrare e restarci per sempre se qualcuno mi dicesse oggi non sono ancora nel cassetto doganale vi direi datemi una mossa dovete entrare nel cassetto doganale chi fa solo import c'è già entrato nel cassetto doganale chi fa import export c'è entrato chi fa solo export potrebbe non esserci entrato ma entrateci perché a settembre vi cambia la vita a settembre dovete tutti stare dentro al cassetto doganale assolutamente confermatissimo se avete fatica vi possiamo aiutare anche noi ma dovete entrare nel cassetto doganale tutti tutti quanti allora un'itv oggi si fa online è tutto attraverso il cassetto doganale ma lo schema della domanda è una domandina di questo tenore in realtà se la guardo la domandina è di una semplicità estrema chi sei titolare hai uno spedizionale che ti rappresenta o vuoi farla da solo quindi l'azienda richiedente titolare se c'è un consulente esterno che vi assiste se lo volete non c'è nessun obbligo che ci sia vi serve una voce doganale 4, 6, 8, 10 cifre vedete qui dovete addirittura classificazione prevista dovete dire quella che voi ritenete sia la voce di riferimento e state chiedendo alla dogana semplicemente la conferma ma qui c'è la possibilità di chiedere il rinnovo quindi sono già titolare di un ITV mi scadono i tre anni chiedo il rinnovo del triennio ma il cuore il vero cuore dell'ITV è la casella 8 descrizione dettagliata della merce allora vedete cosa mi dicono indicare se necessario l'esatta composizione della merce il metodo di analisi utilizzato il processo di fabbricazione subito il valore compreso dei componenti l'utilizzo della merce l'escrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso di assortimento di merce è chiaro che lo spazio è stringato a volte le iscrizioni delle merci sono pazzescamente articolate quindi vedete posso anche allegare un foglio separato o un deplia o una scheda tecnica qualunque cosa renda più chiara possibile la dogana la merce lo posso fare la dogana può chiedere e lo può fare che venga inviato anche un campione è chiaro che se sto mandando via un macchinario un impianto industriale non c'è campione che tenga se mando via un prodotto piccolo la dogana può dire mandamelo campione perché dalla descrizione non ci sto capendo niente potrei aver bisogno di mandarlo in un laboratorio chimico delle dogane quindi dammi il campione che lo mando in analisi sono richieste che la dogana può fare l'andata e ritorno del campione è a spese dell'azienda le prove del laboratorio di analisi sono a spese dell'azienda quindi in realtà la dogana si esprime gratuitamente fa pagare solo le spese vive che potrebbe dover sostenere l'agenzia per analisi chimiche per l'andata e ritorno di eventuali campioni queste sono indubbiamente a carico dell'azienda nel dal 27 settembre 2019 che l'ITV è entrata nel cassetto doganale cioè meglio dal primo ottobre 2019 tutte le domande TV che una volta si gestivano via ordinarissima PEC adesso si gestiscono attraverso il cassetto doganale ok Giuliana però mi sta scrivendo un'azienda è provvista di TV relativa al macchinario che produce e questo è andato rifatto ad un certo punto dopo alcuni anni decide di montare sulla macchina un accessorio che lascia alterata la funzionalità del macchinario però il meccanismo di funzionamento cambia secondo lei sarebbe opportuno chiedere una nuova analisi della macchina oppure si può continuare a usare la lettera riconsigliata da dogana a fine estensione di TV e si richiede poi la verifica del macchinario questa è una bella domanda perché effettivamente una voce doganale del macchinario dipende sia dalla composizione sia dalla destinazione d'uso sono tutti e due elementi che vanno ad influenzare eventualmente la voce doganale della macchina a base di quello che sta scrivendo Giuliana mi sta dicendo che la struttura della macchina è assolutamente la stessa ma grazie a questo accessorio aggiunto la funzionalità del macchinario cambia se cambia potrebbe influenzare sicuramente la corretta attribuzione della voce doganale quindi la potrei vivere come un prodotto ex novo come un prodotto che potrebbe meritare una davvero ITV a sé stante se vogliamo avere certezza assoluta assolutamente sì mentre la signora Martina ha fatto no c'erano già delle altre domande che mi ero perso chiedo scusa forse c'era la signora Simona che da un po' che ha scritto ma non le ho viste di TV allora non è possibile che sia anonima ecco questa è una bella domanda e confermo non è possibile che sia anonima questo è siamo arrivati alla strategia doganale di alcune aziende dove dicono ma io ho paura a farlo in TV non posso fare una domanda così far fare una domanda a uno sconosciuto no anche il consulente io potrei dire la faccio io in TV ma a vostro nome non la posso fare a mio nome perché io non sono un importatore o esportatore di nessun prodotto quindi non esiste l'ITV anonima la sopravvivenza doganale ci ha permesso di dire che in alcuni casi si possa arrivare a fare strategie di questo tipo sono la grande azienda col grande gruppo non voglio esporre la grande azienda a una domanda di TV per paura del parere negativo della dogana allora nel contesto di un'azienda satellite del gruppo dico falla tu la domanda fai tu la domanda di TV vediamo cosa ti rispondono se ti rispondono in senso favorevole nel senso che confermano la bontà di quella voce canale che stavamo ipotizzando gradita noi allora la faccio anch'io domanda come azienda di grandi dimensioni tanto so già al finale della storia perché se è prodotto oggettivamente lo stesso non c'è motivo per il quale la voce canale che hai dato a lui debba essere diversa dalla mia certo che se danno una voce canale negativa nel senso che ti attribuiscono una voce canale non gradita a io grande azienda mi blocco e inizio a rivedere tutto il mio sistema di classificazione doganale senza essermi esposto a con un'ITV però l'ITV anonima come stava ipotizzando penso la signora Simona non esiste anzi vi dico che qualche anno fa era stato intercettato un fenomeno di ITV a carosello in cui le grandi aziende che avevano sedi in tutta l'Unione Europea facevano domanda dello stesso prodotto per la stessa voce canale in tutta l'Unione Europea perché ognuno parla con la sua autorità centrale sperando che almeno una delle autorità centrali le Roma Berlino Parigi di turno dessero un parere sbagliato favorevole all'azienda in quel caso il gruppo usava solo l'ITV favorevole oggi il fenomeno dell'ITV a carosello è stato smantellato ogni volta che un'azienda promuove un'ITV l'organo centrale nostro eventualmente di Roma informa tutte le autorità centrali che ha ricevuto un'ITV per quel prodotto quindi chiunque altra autorità centrale dell'Unione Europea delle Dogane ricevesse una domanda per lo stesso prodotto deve fermarsi attendere il parere di Roma e poi eventualmente esprimersi proprio per evitare questi conflitti che potrebbero inevitabilmente crearsi con pareri discordanti ma se si richiede un'ITV e ci si accorge che il codice ci si accorge che il codice anche precedentemente è stato sbagliato quali sono le conseguenze? Beh è chiaro che nel momento in cui porto a casa una certezza di aver sbagliato la certezza mi porta a dire ma devo andare a correggere spontaneamente le bolle doganali devo andare a fare una revisione spontanea delle bolle doganali ma per forza non c'è non c'è alternativo perché se dicessi ho sbagliato chi se ne frega che potrebbe essere anche un finale anche quello non voglio correggere niente perché non c'ho tempo non c'ho voglia e non correggere niente però è chiaro che il giorno in cui la dogana mi dovesse contestare mai una bolla doganale sono indifendibile perché la dogana mi ha già detto che avevo sbagliato e quindi avrei avuto già il tempo e la possibilità di correggere spontaneamente non ho colto l'opportunità e evidentemente pago poi le conseguenze perché a quel punto dogana mi chiede differenze sanzioni e tutto quanto per un macchinario di cui sia il brevetto nel senso se c'è un parete dell'agenziale dogane sì per me al di là che il macchinario sia coperto non coperto da brevetto questa è una questione solo vostra del brevetto ma questo macchinario ha una funzione questo macchinario viene attribuito a una versione in funzione se è un macchinario per l'industria alimentare per l'industria ceramica per imbottigliare non imbottigliare quindi il dubbio è lì se non so nonostante il brevetto incasellare bene quel macchinario all'interno delle tariffe adoganale posso aver bisogno di un ITV se mi dicono no ma comunque pur essendo brevettato è un macchinario che ha una chiara funzione specifica nominato espressamente in tariffe adoganale e lui non può essere altro che lui tutto sommato ricorrere a un ITV potrebbe anche non essere cosa strettamente necessaria no? oserei dire ok quindi insomma il brevetto mi fa solo pensare forse che sia un macchinario particolare allora il macchinario particolare mi farebbe pensare forse che questo macchinario possa entrare nelle versioni generiche altre macchine con una funzione specifica non nominate né comprese altrove allora quello potrebbe essere ovviamente qualcosa che ha senso no? ok il ok allora se ci siete vi porto ancora a fare una navigata sul portale dell'agenzia dogane ma a questo punto noi andiamo su motore di ricerca e scriviamo una cosa diversa adesso vi condivido lo schermo allora questo ci sta portando in qualche modo a quello che sarà poi l'ultimo strumento che dovremo andare ad analizzare insieme eccolo qua io ho scritto banca dati dell'ATV che cosa è la banca dati dell'ATV diciamo che ogni volta che un'azienda dell'Unione Europea fa domanda di informazione tarifaria vincolante la risposta che si viene data dall'organo centrale per noi Roma per qualcun altro Parigi e chissà cos'altro è una risposta ufficiale che ha una copia riservata al richiedente quindi voi portate a casa un certificato di attribuzione della voce doganale e una copia di questa ITV viene pubblicata sulla banca dati dell'ATV banca dati delle informazioni tarifari vincolanti quindi semplicemente andando a visitare su Google qualunque un motore di ricerca qualunque banca dati dell'ATV io clicco entro nel portale dell'agenzia del canale e mi trovo tutta la storia delle informazioni tarifari vincolanti cosa sono informazioni tarifari vincolanti sono pare previste dal codice doganale dell'Unione Europea sono decisioni amministrative di rilevo unionale perché valgono in tutta l'Unione Europea sono lasciate dall'autorità centrale dei stati membri possono riguardare codici di nomenclatura combinata a otto cifre o tarica a dieci cifre vincolano tutta l'autorità doganale dell'Unione Europea riconoscere il titolare dell'ITV quella voce doganale vincono il titolare stesso ad utilizzare quell'ITV come faccio io titolare dell'ITV a far sapere alla dogana che quella mia operazione di import export è coperta da un ITV sto comprando un prodotto per il quale ho già chiesto l'ITV lo faccio scrivere tramite il mandato allo spedizioniere nella casella 44 della bolla doganale in maniera tale che la dogana se vuole discutere di quell'operazione discute di tutto ma non della voce doganale ma in realtà tu dogana quindi è inutile che discutiamo della montata di quel dato è già coperto l'ITV quindi in casella 44 dovesse trovare scritto C626 più il numero dell'ITV che vi è stata rilasciata a questo punto state raccontando tramite il dichiarante della dogana la dogana stessa che quel bene oggetto dell'import export è stato oggetto di un parere l'effettivo utilizzo dell'ITV è costantemente minorato il servizio della commissione quindi guardano che se poi lo utilizzate davvero ecco l'ITV devono riferirsi un'operazione commerciale di import di export realmente prospettata e ad una sola tipologia di rimersi quindi l'ITV è puntuale su un'operazione di import su un'operazione di export reale quindi non posso inventarmi operazioni perché se sono azienda che vende ombrelli non posso dire voglio un'ITV su dei macchinari per la macchina ceramica che te ne fai se importi e vendi ombrelli cosa c'entra il macchinario non lo puoi fare e ovviamente per una tipologia di rimersi io posso avere anche dieci ricambi diversi con natura diversa e posso fare dieci ITV differenti sì se invece sono dieci parti di macchina ma hanno tutte le stesse caratteristiche posso fare una ITV sola perché hanno caratteristiche simili la cui distinzione è completamente rilevante finire la classificazione organale qui c'è la conferma che le ITV sono rilasciate a titolo gratuito salvo la facoltà di chiedere ristoro di spese vivo e qui c'è poi tutta la procedura di come si ottiene le ITV voi attraverso un consulente un dichiarante doganale fate domanda può fare anche un extra comunitario domanda di TV eventualmente risposta entro 120 più 30 150 distanza si fa tramite il portale dell'agenzia delle dogane che è questo famoso tragico portale unico delle dogane monopoli PUDM è l'impronunciabile PUDM che usate già per le dogane di import e siccome si fa molto ITV per l'import la dogane dice voglio tutta la documentazione in italiano non voglio schede tecniche istruzioni in cinese in giapponese ma neanche in inglese quindi è meglio se lo mandate tutto in italiano altrimenti il dogane può rigettare la domanda e quindi 150 giorni sono un termine piuttosto imbarazzante pensate a quelle aziende stagionali quelle aziende che so anche le aziende tessi la collezione primavera estate faccio domanda mi dà la risposta mi sono già alla collezione successiva cosa me ne faccio c'è uno strumento di questo tipo quindi è uno strumento decisamente eccessivamente lento che in alcuni casi rende lo strumento direi inutilizzabile perché se sono aziende che ha un turnover dei miei prodotti faccio fatica se sono aziende che fa un prodotto standard ripetitivo allora perché no ma siamo all'ultimo strumento che dovremmo raccontarci noi oggi perché in realtà vi ho portato nel portale dell'assenza e dogane e vi sto ripetendo un po' le stesse cose come caratteristiche dell'ITV ma in realtà qua vedete un interessantissimo link che potrebbe rappresentare un ennesimo divertimento serale per le vostre serate a casa in cui c'è l'accesso al database della commissione europea per l'ITV di cosa stiamo parlando e vi ho detto che ogni volta che un'azienda promuove un'ITV la risposta se autorizzata dall'azienda viene pubblicata sul portale dell'Unione Europea allora questo è uno strumento potentissimo uno strumento che anche la dogana userà tantissimo contro di voi ma che potremmo farlo nostro e usarlo per sostenere le nostre tesi in dogana allora questo è tutti gli effetti di un database libero di libero accesso chiunque può entrarvi chiunque può consultare e quindi lo facciamo anche noi insieme clicco e mi porto dentro il portale dell'Unione Europea consultazione delle ITV qui c'è lo strumento per andare a consultare tutte le ITV presenti in questo momento nella banca dati quindi tutte le ITV presenti presentate rilasciate nell'ultimo triennio da tutte le autorità centrali dell'Unione Europea qual è lo spirito di questa banca dati ricordate una delle tante affermazioni che vi ho fatto in questo pomeriggio indimenticabile in cui dicevo che noi siamo l'Italia siamo figli del codice ideogonale dell'Unione Europea siamo un tutt'uno con l'Unione Europea e le voci ideogonali definiscono dei regolamenti comunitari quelli che escono a fine ottobre e quindi il principio è che le voci ideogonali devono essere uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea per cui se avessi la bravura la fortuna non so come definirla di intercettare un'Itv già rilasciata da autorità centrali dell'Unione Europea un polacco un portoghese un francese uno spagnolo di un prodotto assolutamente identico al mio io so già qual è la voce ideogonale del mio prodotto perché non c'è motivo per il quale la dogana dovrebbe ritenere diversa la mia voce ideogonale allora qui dovete imparare ad affinare il gioco dovete imparare a studiare lo strumento a consultare lo strumento e a tirar fuori le ITV favorevoli perché come la dogana tirerà fuori i TV favorevoli alla sua opinione per contestarmi la voce ideogonale noi potremmo eventualmente individuare i TV favorevoli a supporto della mia tesi di voce ideogonale quindi qui potete divertirvi di quale paese mi interessa vedere le ITV uno in particolare o tutti insieme appassionatamente io direi tutti insieme appassionatamente tanto le voce ideogonale devono essere uguali tutta l'Unione Europea se trovasse anche una tedesca una francese una polacca che male c'è qui mi chiedo un riferimento a un ITV ma qui vuol dire che ho un numero di un ITV particolare sto cercando quell'ITV in particolare la metto mi esce subito ma in realtà voi in questo momento non conoscete nessuna ITV quindi state andando a caso state muovendovi alla ricerca spasmodica di qualche ITV che vi possa aiutare potete fare dei filtri per data di inizio data fine validità lasciate partire da una certa data quindi è proprio un filtro tutti gli effetti che stiamo vedendo se no c'è la ricerca più classica per voce ideogonale quindi io potrei essere l'azienda che sta cercando disperatamente un 8422 e quindi cerco tutte le ITV lasciate sull'8422 ricerca molto generica però la posso provare a fare potrei aggiungere delle parole chiave posso escludere alcune parole chiave posso mettere delle iscrizioni dell'articolo posso chiedere di ordinarmi le risposte per voce ideogonale per validità per riferimento TV per presenza eventualmente di immagini questo è solo un ordinamento di come voglio che mi siano presentate le risposte che ho trovato in banca dati delle ITV inizio la ricerca adesso la sto facendo volutamente generica inizio la ricerca e in tempo reale mi ha trovato 70 risultati sono risultati di ITV e questo è un tedesco un tedesco un francese un irlandese un francese un tedesco un irlandese un tedesco un tedesco un tedesco un francese un tedesco 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 vedete me l'avevo in qualche modo già anticipato ma chi ha la cultura di chiedere le ITV sono i tedeschi ma perché perché l'hanno inventato loro lo strumento è giusto dire che questo lo strumento dell'ITV esisteva in Germania ben prima della creazione dell'Unione Europea e quindi i tedeschi hanno chiesto all'Unione Europea di adottare uno strumento analogo e per i tedeschi è assolutamente una cultura naturale andare a chiedere l'ITV per gli italiani è molto meno naturale infatti gli italiani latitano non è che non ci siano per carità perché io personalmente ne ho fatte le domande di ITV ma numericamente in proporzione ai tedeschi siamo nettamente inferiori posso andare avanti di altre 25 e vai di tedeschi ecco un italiano finalmente gli italiani appaiono ecco qui ce ne sono anche diverse allora al di là di quale sia il paese che ha richiesto ottenuto l'ITV perché dietro c'è un'azienda ovviamente noi possiamo entrare in ogni ITV e questo è il bello la forza di un ITV allora apriamoci le prime un'italiana vediamola questa è un'azienda italiana e questa è la voce di un'alto 422 40 00 che è stata rilasciata dall'agenzia di Roma e si sta parlando di una macchina automatica per il confezionamento di tubi composta da due avvolgitori mobili affiancate la macchina svolge attività di imballaggio improntata sull'avvolgimento automatico di tubi corrugati in PCV PPPE e reggiatura al di là della caratteristica che adesso ci interessa fino a un certo punto andare a leggere nel suo dettaglio questa è la tipologia di macchina per la quale è stata richiesta e ottenuta un ITV io dico io faccio un prodotto che non c'entra niente con questo ho perso 10 secondi di vita a leggere un ITV inutile se mi chiedessi no aspetta un attimo ma anch'io faccio macchina automatica per il confezionamento dei tubi leggiamola bene e mi identificassi in questa descrizione ma io credo che non ci sarebbero grossi dubbi nel dire che questa sia anche la mia voce oganale anzi forte forte di queste TV che ho intercettato come si dice che la banca dati fa giurisprudenza no questo è un parere già rilasciato quindi tu ti puoi uniformare a questo parere ma io voglio la forza vincolante voglio la forza dirompente di un ITV mia ma una volta che io promuovo un ITV a questo punto ma la faccio davvero a Roma allegando perché è possibile farlo nella mia domanda di TV allegando l'ITV favorevole dicendo guarda che cara dogana di Roma che io faccio una macchina per il confezionamento dei tubi io credo che 8422 40 00 sia la voce oganale di riferimento d'altronde l'avete già detto anche un'altra azienda italiana questa è l'ITV e te la leggo per tua comodità la dogana italiana perché è vero la dogana italiana prima di esprimersi su una domanda di TV fa la stessa cosa va in banca dati delle TV va a verificare se qualche altra autorità centrale se è già espressa o meno su un certo prodotto perché non esiste concettualmente anche se poi è esistito nella storia ma non dovrebbe esistere concettualmente che è uno stesso prodotto in Italia se è classificato in un modo in Francia in un altro in Germania un terzo caso ancora per cui la dogana lo gradisce veramente che nella mia distanza di TV io possa presentare già delle TV favorevoli a supporto della mia opinione è ammissibile assolutamente sì intanto sgravo della dogana del lavoro di ricerca che comunque la dogana andrà a fare lo stesso perché la dogana prima di per questo che ci mette tanto tempo perché riceve la domanda analizza la documentazione decide che è tutto a posto si può esprimere se non fosse tutto a posto mi chiede chiarimenti mi chiede le integrazioni una volta tutto a posto informa le autorità centrali che stanno provvedendo loro a rilasciare un parere inizia a fare ricerca sulla banca dati di TV per capire se qualcuno si è già espresso lo stesso prodotto è un'analisi che alla fine fa perdere un sacco di tempo e noi parliamo sempre con l'agenzia della dogana di Roma di TV è un dialogo tra voi e Roma non tra voi la dogana locale di Parma Reggio Emilia o Piacenza che sia noi andiamo a parlare solo ed esclusivamente con la dogana centrale nel campo 44 si può fare riferimento ai TV di altri? no purtroppo nella casella 44 come si chiede se è una barba in questo momento si può spendere l'ITV solo di cui siamo noi titolari non quelle di altri poi in sede di contenzioso in sede di contestazione io potrei anzi lo farei sicuramente dire alla dogana sì ma io ho usato questa voce canale ma non perché l'ho pensata io ma perché ho già trovato ti manca dati un supporto però vi faccio un caso contrario un caso di vita reale vissuto non molto tempo fa un'azienda che importa sacchi di juta sacconi di juta quei sacconi resistentissimi dove si mette la merce e la rinfusa questa azienda ha il suo business è importazione in sacchi di juta che poi vende alle aziende italiane diciamo che questi sacchi di juta hanno la voce canale sacco di juta e lui non c'è dubbio alcuno l'azienda ha sempre importato sacco di juta e mai avuto contestazioni lato dogana sulla voce canale sacco di juta se non che il fornitore indiano a un certo punto gli sa dire all'azienda guarda che sacco di juta è proprio bruttino a vedersi se vuoi ti plastifico l'esterno plastificandoti l'esterno tu puoi iniziare a metterci i loghi colorati immagine tutta diversa di prodotto facciamolo l'azienda approva dall'ok plastificami pure l'esterno del sacco e iniziò a importare sacchi di juta plastificati sull'esterno importi 1, 2, 10 a un certo punto la dogana blocca l'ennesima import dicendo errore clamoroso sulla voce canale in che senso è chiaramente un sacco di plastica lo apro vedo plastica è plastica questo sacco non scherziamo il sacco di juta l'ho plastificato per una questione estetica all'esterno ma la struttura aiuta quindi non c'è dubbio alcuno che io devo classificarlo a sacco di juta la dogana dice no no io vedo plastica voglio che uno classifica sacco di plastica e la discussione al di là della disposizione meramente filosofica aiuta o plastica è che cambia pesantemente anche il dazio all'import un sacco di juta paga l'1,6% un sacco di plastica paga 6,5% un modifica sostanziale per l'azienda l'azienda dice no 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 non accetto questo parere della dogana se prende un abbaglio clamoroso è un sacco di juta punto la dogana dice ok pensi così sai cosa faccio che io trovo contesto come dogana e a supporto della mia contestazione in cui ti sto sostenendo che il sacco è da classificare a plastica ti porto un ITV rilasciata ad un'azienda non ricordo se rumena polacca comunque un'azienda dell'est che importando sacchi di plastica classificati dentro o fuori ha promosso un ITV alla sua autorità centrale e la risposta è stata è un sacco di plastica quindi c'è poco da discutere cara azienda è un sacco di plastica noi in azienda sosteniamo no dogana stai prendendo un abbaglio tu non puoi usare a supporto della tua tesi di contestazione un ITV di un prodotto simile ma pur sempre diverso perché tu mi stai portando il caso di un ITV di un sacco classificato dentro e fuori io l'ho classificato solo fuori per cui potrei anche essere d'accordo che se lo classifico dentro e fuori prevale l'elemento plastica sull'elemento juta ma io l'ho classificato solo fuori quindi continua a prevalere l'elemento juta quindi è un sacco di juta non scherziamo e siamo fermi sulle nostre posizioni la dogana e l'azienda a questo punto la dogana è la messa verbale per loro dicono è plastica l'azienda dice non ci pensate neanche aiuta contenzioso doganale discutiamo e l'azienda anche sul nostro suggerimento non molla l'osso dice non puoi dirmi che è plastica anche perché se io accettassi il tuo parere di dogana che è plastica tu mi vai a riprendere gli ultimi anni di import mi vai a riclassificare tutte le differenze gli interessi le sanzioni per me è inaccettabile quindi non possiamo perdere su questa partita la juta è juta deve rimanere discutiamone in tutti i gradi di giudizio del ex commissione tributare ma dobbiamo uscirne col parere favorevole che trattasi di sacco di juta assolutamente l'azienda giustamente in questi giorni mi continua a dire ma io che comunque continuo a importare dall'index i sacchi classificati all'esterno li classifico juta o plastica assolutamente iuta perché se io stesso aziende potatrici iniziasi a dire plastica sto già ammettendo di aver sbagliato il problema per l'azienda giustamente dice ma ma se io poi perdo il contenzioso a me ne prende il passato ma mi prende anche il futuro a questo punto sì inevitabilmente sì io sto alimentando ancora del possibile contenzioso assolutamente sì il e questo è un po' la paura di chi insomma fa questo tipo di attività intanto saluto la sola Giuliana che si sta lasciando vedo che poi piano piano ci stiamo avvicinando all'ora X di fine chiacchierata quindi giustamente avete altri impegni e piano piano insomma vedo che il numero di partecipanti lentamente ma è sceso ora prima che arrivare ai saluti finali per tutti io quello che voglio dirvi è che l'ITV la banca dati dell'ITV è veramente uno strumento interessante però ve lo devo ancora far vedere dedico ancora due minuti non vi preoccupate poi vi lascio liberi perché io ho guardato un'ITV italiana ma se guardo quella polacca è scritto dialetto polacco cioè sono tutte in lingua originale questo è il difettuccio dell'ITV che sono in lingua originale e finché l'italiano ce la facciamo finché il francese finché il tedesco qualcuno che mastica la lingua penso che in azienda lo trovate ma quando è polacco magari mi stupite parlate fluentemente il polacco io faccio molta fatica e quindi dico ok l'ho detta ma di che stiamo parlando le keywords mi possono aiutare le keywords sono le parole chiave e questo mi può aiutare a cercare di capire di che cosa si tratta però faccio fatica me ne devo andare a tradurre una alla volta quello che può invece aiutare moltissimo anche se non conosco il tedesco anche se in teoria dovrei conoscerlo perché ho fatto anche cinque anni di scuola tedesca ma bene questo faccio più bella figura dire che non lo mastico il io posso cliccare sulla foto e quindi magari da tecnico di prodotto vedendo la foto posso dire ho capito di cosa si tratta anche senza sadurmi tutto una cosa che mi interessa la approfondisco una cosa che non mi interessa non la leggo neanche più quindi la presenza delle foto aiuta aiuta tantissimo innegabilmente si riesco a capire qualcosa anche della Repubblica Ceca sta parlando di un prodotto di questo tipo è quello che faccio io bingo mi interessa l'ITV allora la vado a tradurre è un prodotto lontano di luce da ciò che produco io perso del tempo a leggere un ITV assolutamente inutile la cosa bella che vedete è che vengono segnalate in rosso le ITV che ho già consultato se non trovo fuori di navigare finisce che leggo sempre le solite ma l'attenzione finale a cui volevo portare tutti guardate proprio sul come sono fatte l'ITV perché questo mi piace anche poco ma vabbè comunque la leggiamo ogni volta non ve l'ho fatto notare prima perché volevo farvelo notare solamente adesso ogni volta che la dogana si esprime ogni volta che la dogana mi dà un ITV mi dà la giustificazione della classificazione mi spiega il percorso logico attraverso il quale è arrivata a dirmi che questa famosa macchina automatica per il confezionamento di tubi debba essere classificata all'8422 40.00 esempio in questo caso la dogana cosa sta dicendo udite udite si è letta le regole generali interpretative la domenclatura combinata da 1 a 6 vi ricordate quella pagina 15 con cui abbiamo iniziato tre ore fa la nostra chiacchierata non è andata a rileggere un'ennesima volta anche se sono regole che conosce a memoria se la va a rileggere per trovare spunti si è letta poi il testo delle voci della domenclatura combinata 84.22 84.22.40 84.20 82.40.00 e se letta le note esplicative del sistema urbanizzato della 84.22 questi sono gli strumenti che in questo caso la dogana ha usato per arrivare a definire una voce oganare qualunque in tv voi apriate anche nel danese più spinto c'è la giustificazione adesso io non so tradurvi ovviamente no qui la già si non riesco a tradurlo però posso intuire quello che scrivono i danesi regole generali da 1 a 6 la domenclatura voi si tratta 84.22 84.22 40.00 nota introduttiva al capitolo sedicesimo quindi la regola 3 e sto andando proprio a fantasia però se il numero romano mi fa pensare che sia la nota introduttiva alla sezione poi 84.22 e niente quindi vedete però non so perché sono un misto di parole italiane qui perché partite una traduzione quasi secondo me in italiano ma non fedele non fidatevi comunque quello che voglio dirvi è qualunque sia le tv voi trovate la giustificazione del percorso logico che la Dugana ha fatto e questa è sempre la solita azienda secondo me che ha fatto la stessa domanda proviamo a cambiare andiamo avanti un irlandese regole generali ma non è che si perdono molto devo sempre mettere non sempre si perdono i dettagli qui in francese regole generali 1 a 6 la classificazione è stata terminata per le note della sezione del capitolo della posizione relativamente 84.22 quindi come vedete comunque c'è sempre ragionamento e se guardate gli strumenti che la Dugana mi sta elencando nel riepilogo del rilascio dell'itv sono esattamente gli stessi strumenti che vi ho raccontato io quindi in questo senso insomma credo che noi si siano raccontati tutti gli strumenti che aziendalmente dovete conoscere quindi se la Dugana usa quello usiamolo anche noi perché no ora siamo ormai a ridossissimo del fine della nostra chiacchierata per cui non so se ci sono qualche domandona finale io credo di aver risposto più o meno a tutti più o meno ovviamente non ci metto la mano sul fuoco però non mi risulterebbero domandone in sospeso quindi non so se c'è qualche domanda finale o non ne potete semplicemente più mi starmi ad ascoltare cosa gettonatissima alle 17.30 dopo un pomeriggio comunque lavorativo per tutti e forse c'è una domanda una finale adesso vediamo se la vedo ah no era solo un grazie non è una domanda ringrazio anche io signor Giorgio vedo che ormai molti stanno passando ai saluti e niente qualcuno attende registrazioni quindi adesso direi che qualcuno ringrazia ritenendo chiaro e utile il webinar cosa fa ovviamente molto piacere assolutamente innegabile e niente io direi ci possiamo salutare qua per oggi abbiamo il prossimo appuntamento il 3 luglio sempre nel pomeriggio lì parleremo di bollette doganali in senso più stretto quindi forse qualcuno con qualcuno di voi ci rivedremo virtualmente il 3 luglio lascio la parola che sarà seguito anche il 3 luglio secondo me io torno a ringraziarla come ho già fatto l'altra volta non soltanto per la chiarezza e la brillantezza dell'esposizione ma anche per la generosità lei ha parlato molto ha dato molte indicazioni molti suggerimenti io penso che per le aziende sia stata una giornata utile senz'altro campale speriamo non campale speriamo utile ma non campale ma non campale allora il suo intervento è stato registrato quindi nel giro di due giorni non più di due giorni spero ho una collega in ferie le aziende che hanno partecipato ma anche tutte quelle che si sono comunque registrate riceveranno il link a questo suo intervento e anche le slide ecco in modo da avere tutta la documentazione insomma completa io ringrazio ancora e appuntamento a tutti per il prossimo 3 luglio perfetto allora buona serata buona serata anche da parte mia a tutti al luglio arrivederci grazie 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 grazie